buonasera benvenuti e bentornati a cuscito ergo sum diamo un benvenuto caloroso benvenuto al professor sergio botta professore di storia delle religioni presso la sapienza università di roma che ha accettato con volentieri l'invito quindi grazie per aver accettato grazie grazie a voi per l'invito grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando grazie infinito è un piacere anche anche per noi allora oggi parleremo di pseudostoria in un'area che finora non avevamo toccato cioè la al di là dell'atlantico quindi le popolazioni cosiddette pre colombiane quindi prima dell'arrivo di colombo professore potrebbe spiegarci cortesemente le varie popolazioni per esempio si olmechi aztechi maia io una cosa che so è che negli aztechi nei maia negli inca si chiamavano aztechi maia inca tra loro giusto sono nomi che gli abbiamo dato giustissimo sono tutti si tratta di una terminologia che si è prodotta per una complessa serie di fattori e interna alla storia mesoamericana e eh interna alla storia coloniale successiva all'arrivo degli europei che hanno utilizzato della terminologia presente all'interno di questi mondi per definire popolazioni che poi finiscono oggi a distanza di insomma di secoli dall'arrivo degli europei in quelle terre per descrivere molto poco rispetto al passato è ovvio che le conoscenze che gli europei avevano all'inizio del cinquecento erano nulle rispetto a quei mondi si affidavano spesso a anche a racconti di tipo mitologico racconti di tipo leggendario e poi si sono innestati su questi anche come dire moventi di tipo politico più tardo faccio un esempio che è il più eh importante di tutti nella storia nella storia latinoamericana che è quella dei cosiddetti aztechi noi conosciamo gli aztechi per i nostri libri scolastici che ce ne hanno raccontato le gesta perché sono il popolo evidentemente che tra tutti ha suscitato più interesse un regno di di grande di grande importanza conquistato e vinto da Hernán Cortés insomma c'è una storia leggendaria anche dei protagonisti di questa vicenda che ha come dire costruito un una una forte salda presenza di questi mondi nella nostra cultura no pensate Giuseppe Verdi che scrive un'opera su Montezuma no quindi evidentemente eh aveva aveva in qualche modo raccolto un interesse anche nella anche dall'altra parte dell'oceano la storia di questi popoli eh detto questo gli aztechi in realtà eh non sono non si autodefinivano come aztechi eh il termine ha inizio a avere una sua come dire un suo successo nel corso dell'ottocento nella letteratura francese perché alcuni studiosi francesi che avevano recuperato testi indigeni sulla storia raccontavano eh del un viaggio originario delle popolazioni che si sarebbero poi sedentarizzate nell'antico Messico a partire da un luogo mitico noto come Astlan da cui deriva il termine asteghi evidentemente e però evidentemente qui c'è la confusione tra un nome che indica delle popolazioni di di che che sono protagoniste di mitologie con delle popolazioni storiche che invece eh hanno una come dire un complesso di relazioni istituzionali e politiche molto più complicato no? Eh per lungo tempo si è continuato a parlare di asteghi 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 e ancora oggi si fa fatica a a abbandonare questo termine anche perché si parla spesso in maniera incongrua di un impero astego come se gli europei arrivati in queste terre avessero incontrato una struttura imperiale eh simile a quelle che che abbiamo di cui abbiamo fatto esperienza nella storia antica del vecchio mondo no? L'impero romano ma anche gli altri imperi del vicino oriente insomma evidentemente nulla di questo genere eh i popoli a cui a cui ci riferiamo come asteghi non avevano affatto un impero semmai eh potremmo definirli usando delle categorie a noi più familiari come una città stato in una fase espansiva eh che aveva costruito un'alleanza con alcune città vicine eh e che imponeva su un certo gruppo di di altri centri abitati un eh regime di tipo tributario eh a velocità diverse quindi un sistema piuttosto complesso il problema è che questo gruppo che si chiama che che si autodefiniva come mescica eh era solo uno dei gruppi che condivideva una medesima lingua che si chiama nahuatl e quindi in realtà a questo termine eh questo termine astechi non è in grado di descrivere né il gruppo dei mescica né tutti i popoli di lingua nahuatl né tutti i popoli dell'antico messico insomma è un termine davvero impreciso il term la questione interessante eh del termine mescica e i mescica eh governavano una città nota come Mescico Tenochtitlan la la Venezia dell'America una città costruita su degli isolotti e su una struttura idraulica galleggiante straordinaria che poi Cortes incontrera all'inizio del del cinquecento i mescica hanno dato il nome alla nazione perché Mecico con la X però in spagnolo è la eh il riutilizzo da parte della degli intellettuali creoli a trecento anni di distanza dalla caduta dell'impero asteco per costruire un racconto nazionale che eh segnasse l'indipendenza dal da da dalla Spagna quindi un gruppo di di eh di intellettuali uomini politici uomini di chiesa eh di origine spagnola ma oramai lontani dalle vicende della Spagna perché con una discendenza di trecento anni eh molti vivevano le loro famiglie vivono da trecento anni nell'America non hanno mai visto la Spagna non hanno mai messo piede in Spagna non sentivano più quel sentimento di affezione nei confronti della della patria sentivano il sentimento di rispetto per per il potere politico ma con una certa tensione no? Quando insomma scoppia una crisi di natura economico fiscale non entro nel merito e gli intellettuali creoli della nazione devono inventarsi una nuova nazione per rompere con la monarchia spagnola eh trovano solo un appiglio cioè recuperare la storia dell'antica monarchia di quelle terre no? Quindi l'antica monarchia degli sconfitti dei Messica e quindi la nuova Spagna diventa Messico ereditando il nome degli antichi di quell'antica popolazione quindi con le terminologie c'è sempre un uso piuttosto piuttosto articolato e complesso che però ha un effetto e questo si potrebbe riprodurre anche per le storie più passate quelle di di semplificare un poco la complessità istituzionale politica di quelle terre eh vi facevo prima l'esempio del problema dell'impero no? Raccontare queste terre come un grande impero unitario significa ridurne la complessità interna l'articolazione lo sviluppo facciamo ancora fatica noi europei quando non non studiamo in termini specialistici queste terre facciamo ancora fatica a immaginare che nelle Americhe vi fossero civiltà con una storia in senso pieno in senso stretto no? Dobbiamo abituarci a immaginare che anche quella zona quella grande area del pianeta merita come dire di essere indagata studiata e insegnata forse anche nelle nostre scuole come altre parti del pianeta va bene eh quindi i cosiddetti olmechi che almeno secondo la pseudostoria eh a proposito qui confesso tutto quello che 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 so su questo eh l'ho letto sui libri di quando da ragazzino ero appassionato di pseudostoria che tra l'altro l'ho sempre detto chi mi segue chi mi segue lo sa insomma questo canale l'ho aperto proprio perché da ragazzino ero cascato nella pseudostoria e adesso che ho capito come funziona sto cercando di 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 avvisare gli altri perché io stesso avrei voluto che qualcuno mi spiegasse la differenza vabbè comunque quindi fatta questa premessa quindi ti dico tutto quello che so eh dai libri di pseudostoria quindi ti chiedo scusa in anticipo per qualche cosa nulla di grave eh i manuali scolastici che parlano di queste popolazioni non sono poi tanto diversi da da pseudostoria nel senso che eh magari le le cause eh pseudostoriche che rimandano a a terre scomparse a regni misteriosi a interventi extraterrestri quelle nei nostri libri di scuola non entrano però le imprecisioni sì le imprecisioni entrano tutte che voglio dire andrebbero anche bene in in manuali dell'epoca in cui io era a scuola quindi l'altro secolo ma nei manuali del ventunesimo secolo inizia a essere un po' grave il mancato aggiornamento perché la letteratura su questi temi ha fatto passi da gigante quindi bisognerebbe come dire quantomeno correggere i grandi errori ad esempio il problema degli olmechi per lungo tempo anche in questo caso siamo di fronte a una terminologia tarda di olmechi non si è mai parlato in epoche pre ispaniche anche qui si tratta di un termine recuperato da una mitologia eh coeva all'arrivo degli spagnoli in quelle in quelle terre che individua una popolazione originaria dentro a delle mitologie di un gruppo particolare di quest'area eh e mitizzate e quando si è andati insomma l'archeologia come dire quella romantica ottocentesca che cercava le città perdute e le americhe erano un territorio insomma in cui la la ricerca delle città perdute nelle foreste trovava anche qualche qualche appiglio beh come dire eh intitolare le grandi scoperte con i popoli misteriosi che ritrovavano che rivedevano la luce aveva un certo effetto no colmava insomma delle lacune per lungo tempo si è parlato degli olmechi come della cultura madre di quest'area culturale area culturale che per aggiungere qualche elemento tecnico oggi chiamiamo Mesoamerica è un'area piuttosto estesa non è un'area ridotta al solo centro del Messico è un'area che va diciamo dalle zone desertiche del nord del Messico quelle che fanno da cuscinetto eh rispetto agli Stati Uniti perché c'è una lunga una ampia zona desertica nel nord del Messico e del sud degli Stati Uniti che rende le comunicazioni un poco più difficili rispetto ad altre aree eh quest'area poi comprende tutto il territorio centro mediterraneale del Messico eh l'area del Belize del Guatemala dell'Honduras del Salvador del Nicaragua Costa Rica e pian piano diciamo man mano che si procede verso meridione e le foreste tropicali diventano più fitte eh si crea come dire un'altra differente ma un'altra barriera naturale che rende ancora più difficili i passi le comunicazioni da nord a sud quindi come dire quest'area mesoamericana enorme è in qualche modo parzialmente isolata perché ha ha diciamo alla ad oriente l'oceano pacifico che la separa ad occidente dei contatti marittimi con le antille che sono importanti a sud questo freno creato dalle foreste a nord questo freno creato dal deserto ma è un'area enorme perché si tratta di migliaia di chilometri da nord a sud un'area come dire eh abitata da popoli più diversi che entrano in epoche abbastanza recenti eh rispetto al popolamento dell'Europa ovviamente dall'Africa e lì entrano in epoche abbastanza recenti eh qualche decina di migliaia di anni prima della nascita di Cristo prima inizio dell'epoca moderna e nel corso dei millenni iniziano a a produrre i primi esperimenti agricoli nel del del territorio americano domesticazione del mais un cereale come per noi evidentemente il grano l'orzo come per il mondo orientale il riso quelle che Brodella ha chiamato piante di civiltà cioè una pianta che è in grado di aggregare un intero sistema sociale perché richiede un'organizzazione del lavoro importante una stratificazione dei mestieri quindi una sedentarizzazione almeno questo secondo la teoria classica come dire del dello sviluppo dell'epoca neolitica no quindi diciamo una sorta di inizio di un neolitico autonomo nelle america tra le le civiltà che avrebbero iniziato come dire a dare vita a questo salto di prospettiva tra le civiltà ci sono alcuni centri abitati sviluppati che sono tradizionalmente assegnati alla civiltà degli ormai per lungo tempo erano gli unici centri eh archeologici che erano stati scoperti tre sapotes la venta eh sono alcuni centri nel nella zona meridionale del messico sulla costa del golfo quindi prossimità della costa del golfo e si è pensato in qualche modo che fossero le città le prime grandi esperimenti urbanistici che avevano dato vita a un'intera civiltà eh nel tempo recentemente invece si è modificato un po' questa immagine e si è iniziato a parlare non di una cultura madre la cultura olmeca ma di culture sorelle cioè dell'inizio sostanzialmente concomitante di una grande eh come dire epidemia delle idee e delle istituzioni che ha diffuso in tutta l'area mesoamericana in un tempo abbastanza breve cioè in un paio di millenni per capirci tra il quarto terzo millennio in un giro di insomma di di duemila anni ha diffuso in un'area così grande l'uso eh dei nuovi strumenti agricoli che producono una trasformazione impressionante del dei sistemi sociali e anche un boom demografico no perché evidentemente eh le aree adatte all'agricoltura vengono tutte eh popolate si producono centinaia di centri di centri abitati e evidentemente come spesso accade in questi casi eh si creano degli stili eh sostanzialmente uniformi perché ci sono delle cifdom cioè delle elite dei gruppi nobiliari se così vogliamo dire che iniziano a diventare in qualche modo i cardini di queste nuovi sviluppi di queste di queste civiltà agricole sono le elite che governano l'amministrazione dell'agricoltura l'amministrazione dello stato il governo del la difesa del del centro abitato la costruzione del centro abitato l'edificazione dei monumenti ovviamente l'edificazione dei monumenti cerimoniali e quindi si inizia a creare una sorta di prima grande spaccatura tra un'elite e un po e il popolo se così vogliamo dirlo e l'elite si legittima usando come dire anche in maniera propagandistica uno stile eh architettonico artistico estetico che è abbastanza uniforme in tutta l'area nel primo periodo in quello che chiamiamo periodo formativo ci vorranno secoli prima che le diverse aree e le zone locali sviluppino dei sottostili allora per lungo tempo si è pensato che questa cultura originaria nata apparentemente che fosse nata apparentemente dal nulla ma semplicemente perché l'archeologia aveva scoperto due città tre città che sembravano essere come dire sospese in una storia senza senza passato senza presente pian piano che andiamo avanti con lo scavo storico archeologico scopriamo che queste città sono già al punto di arrivo di un lungo percorso no evidentemente va bene va bene quindi in questo anche i maia sono parte i cosiddetti maia sono parte di questa chiamiamo la costellazione di anche questo nome improprio però sono parte di queste popolazioni anche lì forse ho capito bene non c'era una un impero maia ma c'erano diverse città stato che facevano parte di un enorme ambiente culturale condiviso sì per i maia per i maia una delle più grandi studiose archeologo e storiche di aria maia ha scritto un libro meraviglioso si chiama linda scele è scritto un libro che si chiama foresta una foresta di re come dire una foresta popolata puntellata da centinaia di città stato in competizione tra loro che hanno prodotto il grande fiorire della storia mesoamericana per essere un poco pedanti e noiosi facciamo una brevissima rapidissima periodizzazione della storia mesoamericana c'è un lungo periodo formativo dalla dalla domesticazione dell'agricoltura in terzo quarto millennio avanti cristo qui le date ovviamente è chiaro che sono meramente convenzionali e provvisorie che arriva fino al terzo secondo secolo avanti cristo quando inizia un periodo cosiddetto classico cioè il periodo in qui in due aree diverse della mesoamerica cioè la zona maia il sud del messico il guatemala per chi insomma ha avuto occasione di andare in messico in vacanza o per visite o per si tratta della costa dello yucatan di tutta la penisola yucatan ma soprattutto degli alti piani della zona del peten al confine tra guatemala e messico dove ci sono grandi centri abitati storici dell'area maia come come tical come palenque insomma tante città notissime anche agli appassionati di archeologia il classico il periodo di grandissimo sviluppo della città della civiltà maia in questa zona meridionale e della civiltà cosiddetta teotihuacana che si sviluppa a pochi chilometri di distanza dall'attuale città del messico una sessantina di chilometri di distanza dall'attuale città del messico dove questa città teotihuacan delle rovine meravigliose che chi è stata città del messico ha visitato certamente perché si tratta di uno dei siti archeologici più incredibili del pianeta senza dubbio questi due grandi poli di attrazione producono la fioritura di due stili diversi nel periodo classico in contatto oggi sappiamo della presenza costante di scambi commerciali di scambi diplomatici scambi politici tra le due aree che sviluppano anche due modelli politici piuttosto differenti non entro nel dettaglio però i maia eh costruiscono come dire intorno alla al potere delle 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 signorie delle singole città un enorme dispendio di di forze per sviluppare una competizione devo dire furibonda tra le città tra le singole città stati che ha effetti positivi e effetti negativi come sempre accade uno una competizione impressionante per le risorse materiali in un'area difficilissima da sfruttare dal punto di vista agricolo eh siamo in un'area in cui di piena foresta tropicale in cui la agricoltura fluviale classica delle grandi civiltà non ha alcun modo di di prodursi si produce un'agricoltura fondata sul metodo cosiddetto slash and burn taglia e brucia eh con una rotazione ciclica dei terreni per produrre magari delle rese rapide e e estremamente efficaci ma che perdono come dire in eh in fertilità molto molto presto no mentre nella nell'agricoltura europea si lasciava a maggese le terre ogni un certo numero di anni per gli ridargli forza i maia erano costretti a farlo ogni anno a ruotare quindi avevano bisogno per produrre quello che serviva una famiglia un una quantità di terreno molto più ampia rispetto a quello che serviva al contadino medievale europeo questo significa che tutti che che i po che le città maia hanno un bisogno disperato di terre hanno un bisogno disperato di approvvigionamenti materiali e che entrano evidentemente in competizione tra loro nel farlo scatenano una quantità di eh di scontri militari a bassa media e altissima intensità che producono un caos permanente in quest'area che soprattutto alla fine del cosiddetto periodo classico cioè nel sesto settimo ottavo secolo dopo Cristo produce un disastro politico dall'altra d'altra parte come spesso accade quando le le signorie come dire hanno bisogno di eh di costru di 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 usare esercitare un potere politico militare forte hanno bisogno che la popolazione li come dire li sostenga no? E per farlo uno degli strumenti più straordinari è la l'invenzione di 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 un'arte propagandistica di un'arte di un'estetica di una scrittura usata in termini propagandistici e quindi le città del periodo maia classico diventano straordinarie dal punto di vista architettonico sviluppano un'architettura trionfale che è la eh tentativo di glorificare come dire il potere dei di questi sovrani di concedergli anche o meglio di 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 riconoscergli un potere soprannaturale no? Che spesso li legittima a portare una guerra eh che 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 evidentemente ha motivi prosaici ma eh ma legittimazione sacrale e questo produrrà il cosiddetto quello che anche in questo caso è stato letto in termini un pochino romantici il cosiddetto crollo della civiltà maia cioè la civiltà maia intorno al sesto settimo ottavo secolo forse in ragione di una demografia eh che è esplosa e che non non riesce più come dire a trovare eh a trovare risposta nelle nella nella capacità materiale di quell'ambiente naturale di dare di produrre no? Dal lato un cambiamento climatico che aveva un poco reso le come dire le capacità agricole più difficoltose un poco la la conflittualità perenne tra sovrani produce in qualche modo uno smantellamento di questo sistema politico e una sua riorganizzazione il che non significa che alla fine del sesto settimo ottavo secolo i maia non abitassero più quell'area hanno continuato a abitarla anzi potremmo dire che i contadini che la che la coltivavano hanno continuato a vivere lì per per millenni ancora ma le signorie hanno perso importanza si sono riorganizzate si sono spostate in altre aree i centri di potere questo lo dico perché uno dei grandi eh dei dei grandi equivoci intorno a questa storia per esempio è trasmesso da 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 Apocalipto di Mel Gibson che tutti noi abbiamo visto no? In Apocalipto di Mel Gibson si racconta in maniera non del tutto corretta no? L'idea che la civiltà maia in qualche misura sia crollata per un eccessivo uso del sacrificio umano per una vessazione sulle popolazioni sulle popolazioni locali no? Vi ricordate che c'è questa popolazione che vive di sola caccia raccolta che viene catturata da dai sacerdoti dai guerrieri sacerdoti di una città maia e e vengono usati come dire come carne da macello per i sacrifici. Ora al di là dell'incomprensione della funzione del sacrificio vi sono una serie di di errori qui no? Non esistevano popolazioni di caccia raccolta nelle foreste perché le foreste erano tutte interamente coltivate ormai non esiste una una separazione tra le popolazioni della città e le popolazioni delle selve è un'immagine romantica che non esiste in quel momento ma soprattutto Mel Gibson fa un salto come dire un poco scorretto alla fine di questa vicenda i eh i protagonisti del film che fanno parte di questa banda di cacciatori raccoglitori riescono a fuggire fuggono arrivano sulla costa e vedono le navi spagnoli in arrivo e eh Mel Gibson chiude no? In qualche misura con una sorta di metafora sostenendo che in qualche misura le civiltà crollano perché hanno all'interno le ragioni del 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 loro fallimento no? E sono destinate ad essere. Ora qui però c'è una crasi di mille anni circa no? Perché le navi spagnole arrivano in nelle Americhe nel mille e cinquecento Cortes sbarca nel mille e cinquecentodiciannove quel crollo della civiltà maya di cui Cortes sta parlando è del forse del sei del settecento dell'ottocento dopo Cristo no? C'è una storia nel mezzo che gli europei fanno fatica a raccontare cioè l'idea che per quanto le civiltà mesoamericane come tutte hanno vissuto momenti di apoggeo, di caduta, di riorganizzazione, regni sono finiti, ne sono stati sostituiti, ci sono state vittorie militari, sconfitte militari, però anche i maglia del crollo si sono riorganizzati no? Quelle città che oggi abbiamo in foresta e che scopriamo non sono ci sta misteriosamente abbandonate, sono città abbandonate per ragioni economiche, politiche, militari, eh culturali ma quelle popolazioni hanno saputo riorganizzarsi tanto che ancora oggi la lingua dei maglia del periodo classico cioè della di duemila anni fa circa può essere letta solo se conosciamo eh i dialetti parlati da alcune popolazioni maglia della contemporanea quindi c'è una continuità storica simile a quella delle popolazioni di ogni area del pianeta quindi eh questo smonta praticamente una roba che ho letto sui libri di pseudostoria no? Che i maia sarebbero scomparsi nel nulla anzi a tale proposito mi è bastato fare una breve ricerca su internet ho cercato semplicemente mexican come chiave di ricerca per immagini e appare questa immagine aspetta vedo se riesco eccola qua allora eh come si fa a dire che sono scomparsi maia basta andare in Messico eh quella lì quella a destra per chi non lo sapesse eh Pacallo no? Giusto? Sì 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 è uno dei dei volti di uno dei sovrani di Palenque uno dei sovrani più celebri di Palenque perché ha lasciato appunto alcuni tra gli esempi più straordinari dell'arte propagandistica dei nobili dei nobili maia perché Palenque era un nobile di un lignaggio eh che non governava Palenque in un determinato momento aveva bisogno di legittimarsi perché c'era stato come spesso accade nella storia dinastica di tutte le popolazioni del mondo un'usurpazione diciamo da una linea eh familiare ad un'altra per ragioni interne che è difficile ricostruire noi abbiamo solo il racconto di Pacal e quindi Pacal si costruisce una eh esaltazione della sua persona una inventa una storia mitologica del lunghissimo periodo in cui lega la sua dinastia a una antichissima divinità femminile che gli avrebbe dato lustro al lignaggio e costruisce alcune una stelle commemorativa alcune stelle commemorative in dei tempi di Pacal e poi una famosa eh stelle monolitica quella che viene per parlare di pseudostorica quella che viene considerata no la prova dell'atterraggio degli alieni a Palenque perché Pacal si ederebbe su una sorta di astronave un po' stramba come astronave ma che in realtà è uno dell'utilizzo di simboli collegati alla vegetazione tipici dell'arte dell'arte propagandistica di Palenque che fa in qualche modo del sovrano il cardine della produzione agricola no in qualche modo il mais incarnato la pianta che 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 in forma divina no cioè quella pianta che ci dà la vita che è il cardine tutta la nostra vita è in qualche modo incarnato dal re ma quanti esempi abbiamo nella storia dei mondi antichi in cui i sovrani sono incaricati di controllare l'arrivo delle piogge della fertilità della pianta della crescita no questo vale dei lavori idraulici no tutto questo ha sempre come dire non solo un aspetto pragmatico ma sempre viene sempre rivestito di un'aura sacrale che rende queste operazioni come miracolose in un qualche senso per popolazioni che sviluppano le tecnologie in quel momento sono davvero dei saperi tra virgolette miracolosi no sono dei saperi tecnici scientifici che sono straordinari che trasformano le vite di quei popoli quindi i sovrani che sono in grado di dare un impulso hanno hanno un ruolo centrale in quelle storie no ovviamente i maia che avete visto hanno le stessa la stessa genetica no al di là del fatto che pagal spingeva come dire come tipico delle popolazioni mai alcune deformazioni di tipo estetico no deformazione del naso di formazione del cranio uno schiacciamento che veniva prodotto nel cranio dei bambini infanti quando ancora le ossa del cranio sono malleabili venivano fasciati per rendere la testa più appuntita era nei canoni della bellezza della bellezza dei magli antichi era un criterio particolarmente apprezzato però è evidente che si tracca c'è una continuità genetica abbastanza evidente dalle popolazioni dell'area ma ve lo dicevo anche dal punto di vista linguistico quando il maia classico quello delle grandi della grande scrittura di grafica ha iniziato la sua straordinaria storia della decifrazione nell'ultima parte del novecento che poi ha iniziato sono è stata decifrata per la prima volta negli anni settanta e novecento quando si è capito che la lingua non era una lingua pittografica come spesso si è detto per secoli ma è una lingua fonetica a tutti gli effetti e che quindi andava letta con una lingua fonetica ovviamente il problema era capire quale lingua si leggesse con quei segni no perché noi pensando che fosse dal cinquecento in avanti no nella storia come dire anche anche esotizzante di queste scritture ci si immaginava che fossero delle lingue che esprimevano concetti per immagini no un poco come le riflessioni sulla sulla scrittura cinese no quando poi si scopre che invece si tratta di una lingua fonetica evidentemente doveva essere letta in qualche modo senza l'individuazione di una lingua con cui leggere quei fonemi rimanevano dei testi completamente muti quando invece si si è resi conto che la lingua parlata era ancora una lingua delle popolazioni maia della stessa area approssimativamente che ancora oggi la parlavano con l'aiuto anche di molti esperti di linguistica di quell'area la storia di quei popoli è stata fortunatamente riportata alla luce in maniera straordinaria va bene va bene prima si accennava si parlava di cortes quindi che insomma un punto abbastanza un momento storico abbastanza pregno di conseguenze per usare un eufemismo è certo come come siccome negli nei testi della storia a cominciare da questo che ho letto da ragazzino si dice che c'erano questi queste profezie no dei maia che avrebbe insomma profetizzavano che sarebbe arrivato il loro dio dal dall'oriente con la barba vogliamo sfatare anche quest'altra bagianata per cortesia allora la bagianata è ben articolata perché ha diversi come dire a diversi colpevoli e non darei tutta la come dire tutta la colpa tutta la responsabilità studiosi come hankock studiosi lo metto tra virgolette pseudo studiosi vogliamo chiamarli ognuno li definisce come come crede comunque degli pseudo archeologi su questo mi sento di potermi sbilanciare non darei tutta la colpa loro sebbene ovviamente sono responsabili delle delle bagianate che sostengono ma in realtà la bagianata come dire ha una storia lunga come al solito anche in questo caso quindi proviamo a mettere le cose un pochino inutili allora cortes arriva in un'area del del messico che è l'area centrosettentrionale dove oggi c'è città del messico per capirci torno a quanto detto prima città del messico la città di me dei messica è messico tenostitlan è l'antica città che viene rinominata dagli europei appena appena giunti in quel territorio non con mai non con maya ma con messica a steghi due lingue completamente diverse peraltro due lingue non appartenenti nemmeno alla stessa famiglia linguistica cioè non come l'italiano lo spagnolo il francese le lingue romanze o le lingue indoeuropee per essere chiari l'america è una un mosaico una babbele linguistica eh che non ha uguali in altre aree del pianeta perché il popolamento è stato molto tardo e popolazioni che si sono mosse all'interno del territorio mesoamericano americano in termini generali sono andate a disporsi nel territorio anche mescolando tra loro famiglie eh famiglie linguistiche diverse eh il che produce fenomeni che in Europa sono quasi sconosciuti no noi abbiamo delle piccole aree eh extra indoeuropee in Europa che sono precedenti all'arrivo degli europei pensate no le popolazioni dei dei paesi baschi eh l'Ungheria la Finlandia no sono aree del lugro finnico delle lingue ancora più precedenti che hanno resistito in dei piccole aree come dire in parte isolate del territorio ma in un territorio che è uniformemente indoeuropeo le americhe non sono così maia e astechi parlano lingue completamente diverse hanno tradizioni molto diverse hanno avuto contatti storici prolungati che hanno prodotto scambi incontri influenze ma sono molto diversi e hanno tradizioni culturali anche radicalmente distinte eh entro la cultura maia qui provo a a ricostruire una questione che è piuttosto spinosa entro la cultura maia effettivamente abbiamo uno dei eh degli elementi che ha prodotto come dire il mito della profezia mh eh cioè i maia hanno un sistema calendariale estremamente complesso eh che in parte è condiviso in tutta l'area mesoamericana è diventato il calendario che per millenni si sono portati appresso i popoli di tutta quest'area nord come dire vi ripeto dal nord del Messico fino a quasi a Panama mh un sistema calendariale fondato su alcuni computi un sistema del computo dell'anno solare questo è un dato come dire astronomicamente alla portata di tutte le popolazioni sviluppate e imparano tutte hanno imparato a misurare il computo del ciclo solare lo hanno in qualche modo poi organizzato a modo loro eh i popoli mesoamericani lo organizzano su base vigesimale cioè con dei cicli di venti giorni eh quelli che potremmo chiamare dei mesi di venti giorni eh il computo vigesimale ovviamente produce cicli di venti giorni che riempiono trecentosessanta giorni non trecentosessantacicoli rimangono cinque giorni sospesi fuori dal computo che tutti i popoli mesoamericani hanno contato come dei giorni speciali e hanno sottoposto a un trattamento rituale complesso alcuni sospendevano le attività altri facevano delle feste particolari ma insomma è per bisogno aritmetico matematico dettato dall'osservazione astronomica c'era il bisogno di segnare questi cinque giorni esterni e arrivare ai trecentosessantacici eh complesso capire poi quanto eh quanto fossero capaci di calcolare il bisestile o meno questa è una questione enormemente eh di battuta nel con nell'area ma crediamo oggi crediamo che sapessero come aggiustare il campo il computo del del bisestile poi avevano un altro computo questo che ha attirato tantissime come dire eh curiosità negli studiosi perché è un computo totalmente artificiale di duecentosessanta giorni eh che non risponde a nessun ciclo naturale perché cicli di duecentosessanta giorni che si susseguono uno dopo l'altro non corrispondono a nessun ciclo particolare finiscono per iniziare una volta in inverno una volta in primavera una volta in autunno una volta e cambiano costantemente ma il ciclo di duecentosessanta giorni sembra essere nato per ragioni meramente matematico aritmetiche senza fare tutto il ragionamento specifico però il computo di duecentosessanta giorni ancora una volta su base vigesimale ancora una volta su un ciclo di venti giorni è invece un computo completo perché tredici cicli di venti giorni fanno duecentosessanta allora facendo correre parallelamente il conto dei venti giorni su un ciclo e sull'altro mh cioè come dire usando dei segni che riconoscano questi questi diversi venti giorni con una qualità differente lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica inventiamo convenzionalmente un computo di venti segni diversi questi venti segni diversi servono per un ciclo e per l'altro i due cicli nascono partono nello stesso modo con un capodanno comune mettiamo e poi si spasano perché un ciclo di duecentosessanta seguirà cercherà inseguirà sempre quello di trecentosessanta ma c'è un momento matematicamente dato dopo cinquantadue anni solari in cui i due cicli riniziano insieme e quindi uno strumento matematico per riuscire a costruire un ciclo che ha la stessa funzione che per noi hanno i secoli un ciclo di cinquantadue anni che gli astechi chiamavano vecchiaia indicava un ciclo conchiuso e si contavano dei cicli per secoli diciamo gli astechi mesoamericani tardi contavano per sé i maia però precedentemente nell'epoca classica quindi un millennio prima dell'arrivo degli spagnoli avevano un ulteriore altro computo un altro computo lungo quello che cosiddetto il cosiddetto ciclo lungo che contava per cicli di cicli di cicli in realtà come dire è stato un computo che non ha mai guardato in avanti ha sempre guardato indietro che intendo è un computo che non è mai servito a misurare molto perché misurava il tempo in migliaia di anni come in parte la tradizione dei cicli cosmici dell'antica india per capirci che non sono mai serviti per registrare davvero fatti storici nessun fatto storico era la conoscenza di nessun fatto storico era la portata degli antichi maia con una profondità di millenni evidentemente no questo serviva a fare cosa come nel caso del pagal che abbiamo visto prima a raccontare o meglio al a a a offrire alla propria popolazione la storia di un lignaggio straordinariamente incredibilmente potente che aveva una storia profondissima che rimontava fino a cicli e cicli e cicli precedenti la la dea da cui pagal stesso otteneva il suo potere era nata ai tempi della creazione del mondo no era coeva la creazione del mondo e quindi doveva essere collocata storicamente in cicli antichissimi ora ovviamente questo meccanismo produceva per l'appunto l'idea di un tempo in parte lineare misurabile ma che si riannodava secondo grandi cicli no come succede in tante in tante popolazioni questo permetteva di dire soprattutto nell'arte propagandistica che la nascita la salita al trono il successo il potere dei grandi sovrani si spiegava anche perché era come dire il ritorno di grandi eventi che erano avvenuti in epoca precedente ora tutto questo vuole che l'ultimo grande ciclo del periodo del periodo che i mai avevano pensato cioè quello in cui vivevano era in qualche modo iniziato cioè il compito di quel ciclo era iniziato approssimativamente intorno al 3.112 14 avanti cristo ma evidentemente una data che i maia fissano a posteriori inventando un anno zero lontanissimo non hanno nessuna conoscenza storica del 3.000 avanti cristo anzi potremmo dire che forse quei maia dell'area classica nel 3.100 avanti che non c'erano proprio non esiste cioè non esistevano esistevano i loro progenitori ma non esisteva una civiltà maia quindi è una data fissata a posteriori perché legittima al potere no e questo ciclo si sarebbe chiuso si sarebbe chiuso nel celeberrimo 2012 ovviamente sono date che dobbiamo prendere un poco così approssimativamente perché non abbiamo la precisione matematica dei calcoli maia antichi li riaggiustiamo facciamo fatica a collocare gli eventi che loro descrivevano con i loro calendari in degli anni precisi ma approssimativamente questo è ora su la futura data del 2012 noi non abbiamo alcuna profezia maia anche perché i maia erano talmente lontani rispetto a quella data 200 300 avanti cristo 500 dopo cristo la vedevano come talmente distante che non avesse non avevano né proiettato né profetizzato nulla di di come dire di specifico nessun evento particolare che sarebbe dovuto avvenire se non una come dire una ripartenza del tempo una un inizio di un nuovo ciclo per raccontare questo avvicendarsi dei cicli i popoli mesoamericani spesso raccontavano di grandi cataclismi che sarebbero avvenuti alla fine di un ciclo che si sarebbero avvicendati però per i maia mettiamo un punto saldo non abbiamo alcuna profezia sul 2012 sul loro anno che corrisponde al nostro 2012 non avevano in alcun modo mai pensato a questa data ciò che sarebbe avvenuto non attendevano il ritorno di nessuno e neppure i discendenti maia dell'epoca dell'arrivo degli spagnoli anche nell'area maia arrivano gli spagnoli un po' più tardi rispetto a cortes ma che lì arrivano neppure loro ci hanno mai lasciato profezie di questo genere ora quindi mettiamo da parte il problema maia che sembra lo stesso ma è separato invece in area messicana cioè mescica centro del messico dove cortes arriva e e prende possesso dell'antica città asteca uso asteca incongruamente ma per capirci e costruisce la città del messico attuale contemporanea eh lì nasce la cosiddetta profezia del ritorno del serpente piumato come nasce allora la questione qui è intricata e complessa la leggenda che è diventata insomma come dire celebre dalla seconda parte del settecento in avanti principalmente e che poi condisce tutta la pseudo storia europea ha degli ingredienti saldi che più o meno conosciamo tutti sostanzialmente all'arrivo di cortes cortes sarebbe stato scambiato per una divinità dagli astechi che quindi avrebbero immaginato che cortes era in qualche modo la reincarnazione diretta di una divinità eh che era che aveva abbandonato quelle terre nei secoli precedenti oppure il discendente di quella divinità che tornava a prendere possesso ora capite che se lo storico si mette come dire alla ricerca del 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 significato di questo racconto un poco di sospetto viene che questa costruzione di questa leggenda non sia neutra no non sia innocente perché cosa sta dicendo il racconto che gli astechi in qualche modo legittimano la conquista di cortes allora qui lo storico avvertito anche poco avvertito semplicemente non del tutto ingenuo però inizia a sentire come dire un poco di disagio e può pensare che forse il protagonista di questa invenzione non sia da parte indigena ma magari da parte europea allora andiamo a fare lo scavo delle fonti perché gli storici questo fanno no devono mettere in fila le fonti che hanno a disposizione e provano a cercare le tracce di degli ingredienti di questo racconto come è nato questo racconto no quando è nato quando è la prima volta che appare quando la prima volta perché appare si parla di questa di questo di questo personaggio allora diciamo che in termini pienamente compiuti pienamente compiuti cioè il racconto dell'idea che cortes è tornato nelle terre di messico per prendere possesso del suo regno dopo essere stato cacciato dai suoi sudditi che non accettavano la riforma religiosa che che il serpente più amato avrebbe voluto compiere riforma che annullava i sacrifici umani e che promuoveva la venerazione di un unico dio a che vi fa pensare voi a tutto questo racconto no allora questo racconto appare per la prima volta nel 1577 approssimativamente forse qualche anno prima forse pienamente compiuto nel 1577 a raccontarlo così come lo ve lo ho sintetizzato brutalmente è un frate domenicano diego duran anche questo dovrebbe dirvi che c'è un piccolo problema non solo diego duran compie questo salto ma dice anche un'altra cosa dice in fondo il serpente piumato non è altri che san tommaso il san tommaso che nelle leggende medievali sarebbe andato verso oriente non sappiamo dove si è fermato verso oriente no ha continuato a evangelizzare forse chissà si è spinto fino alle americhe questo dice dice duran no si è spinto fino alle americhe ha lasciato tracce dell'evangelizzazione i popoli americani non lo hanno riconosciuto come il riformatore religioso che si attendevano e lo hanno cacciato ovviamente questo pone delle questioni no innanzitutto il cristianesimo è arrivato nelle americhe sarebbe arrivato nelle americhe prima dell'arrivo di cortes quindi cortes non è colpevole di del trattamento ingiusto nei confronti di popolazioni innocenti che potevano saperne del cristianesimo non avevano avuto alcun contatto con chiuso non avevano avuto alcuna notizia del vangelo perché come avrebbero potuto essere cristiani senza l'annuncio del vangelo i vangeli come dire avevano promesso che che gli apostoli avrebbero portato il vangelo a tutte le genti perché quelle genti erano rimaste escluse dall'evangelizzazione duran prova a trovare una strada è un'ipotesi storica no dice probabilmente un apostolo un un uomo della 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 storia del cristianesimo ha già portato l'annuncio loro lo hanno chiamato chesalcoatl topizzi in chesalcoatl nelle loro lingue ma alla fine lo hanno cacciato perché gli ha come dire li metteva in discussione le loro istituzioni religiose una volta cacciato quando ne tornano i suoi discendenti cioè gli europei cristiani hanno tutto il diritto a riprendere possesso di quelle terre perché colpevoli sono incolpevoli scusate innocenti sono gli infedeli e gli idolatri che non conoscono il vangelo ma quelli che lo conoscono sono colpevoli quelli che lo hanno conosciuto e non lo hanno accettato sono colpevoli e quindi possono essere conquistati ovviamente se la narrazione ha una funzione all'interno della storia dell'evangelizzazione di queste terre poi prende altre funzioni più avanti ma torniamo un pochino indietro allora prima del 1572 cosa c'è oggi abbiamo la possibilità di studiare come dire documenti precedenti all'arrivo degli europei perché abbiamo una conoscenza sempre più stabile delle lingue indigene sempre più stabili dei testi scritti in lingua indigena ecco un altro dubbio che dobbiamo sfatare eh in messico esistevano probabilmente almeno quattro o cinque diversi gruppi di scritture nell'area mesoamericana alcuni parlano addirittura di venti tipi di scritture diverse abbiamo sempre detto che si tratta di popoli senza scrittura ormai sappiamo che sono popoli del libro civiltà del libro come altri non abbiamo più quei libri ne abbiamo solamente quindici non perché abbiano smesso di scrivere ma perché sono stati bruciati quei libri evidentemente in decine di migliaia di copi sono stati bruciati eh detto questo quel quel poco che abbiamo a disposizione prima dell'arrivo degli spagnoli ci fa dire che tracce di una profezia di un ritorno di questo quesalcoatl non ne abbiamo i testi astechi i testi mescica i testi in lingua nahuatl che raccontano la mitologia di che di chesalcoatl che è una figura realmente eh presente nella mitologia preispanica non parlano di una fuga di chesalcoatl dal mare ma parlano di una trasformazione alla morte chesalcoatl si trasforma in venere una stella che ha una funzione venere è un nastro evidentemente talmente singolare no nel firmamento che tutti i popoli li hanno proiettato come è noto anche in vicino oriente una particolare significatività no è la stella del mattino eh la stella della sera in qualche modo ha un ciclo particolarissimo che lo rende particolarmente adatto per essere mitizzato no e per farlo divenire come dire un astro regale tra gli altri astri e in qualche modo questo chesalcoatl che diventa venere è un chesalcoatl che rappresenta il potere politico questi racconti non parlano mai di un eh di un chesalcoatl che dovrà tornare ma di un chesalcoatl che alla fine del suo ciclo da eroe civilizzatore dove aver portato la scrittura le arti l'architettura il lavoro la guerra gli ordini militari finisce il suo compito e si trasforma in un astro per essere lì come dire da monito perenne per quelle istituzioni che sono state per lì questo è quello che appare fino all'arrivo lì chesalcoatl questo lo sappiamo perché ormai insomma abbiamo studiato come dire lungamente l'iconografia di di chesalcoatl ehm questo questa divinità ha anche una storia come spesso hanno anche le divinità non sono se pretendono di essere eterne ma nella storia hanno hanno dei momenti di maggiore fulgore rispetto ad altri questo chesalcoatl è particolarmente connesso alla fase di riorganizzazione politica che nell'area mesoamericana si mette in atto con la caduta della civiltà maia di cui abbiamo parlato precedente cioè i re maia tutti in guerra gli uni con gli altri hanno in qualche misura dimostrato alle popolazioni mesoamericane che manca forse un'ideologia qui sto un poco congetturando un po' narrando una storia che è difficile raccontare così perché non siamo elementi di quegli uomini però a volerla sintetizzare in maniera divulgativa provando a fare una piccola narrazione in quella fase di crisi tra il sesto settimo ottavo secolo dopo cristo quando la civiltà maia crolla per queste eccessiva competizione che non fa emergere come dire delle strutture eh che possano eh superare i limiti della competizione tra le città stato cioè non ci creano degli stati più estesi delle organizzazioni federali degli imperi non riesce a crearsi nulla del genere e questa conflittualità è rischia di essere solo distruttiva i popoli che si riorganizzano i maia che si spostano ad esempio in altre aree più a nord che costruiscono nuove città che iniziano a ripensare le organizzazioni civiche iniziano a raccontarsi in una maniera completamente diversa ad esempio due figure sono estremamente interessanti una le rappresentazioni di poteri politici federativi con dei consessi di nobili che si riuniscono di fronte a un trono vuoto cioè il trono non ha più un re ma è una funzione condivisa cioè si iniziano a mettere in modo delle forme non dico democratiche tutt'altro ma forse di rapporti che stanno cercando un equilibrio tra sovrani in competizione in quel momento una figura che era stata molto importante nel pantheon maia che è questo serpente della visione cosiddetto questo serpente piumato inizia a acquisire immagini antropomorfiche per la prima volta viene rappresentato come una come un uomo contratti da serpente piumato e pian piano inizia a diventare sempre di più un uomo di cui si raccontano le gesta in pitture parietali in grandi cicli di bassorilievi straordinari in varie città ciascimilco cacastla insomma tantissime città di quell'epoca che raccontano la vicenda di un fondatore di città di un fondatore di regni allora si inizia a sviluppare in questa fase di passaggio un'ideologia di tutta l'area per la quale tutti le signorie come dire possiedono un un uniforme meccanismo di legittimazione sono tutti discendenti di questo topilsin chesalcote di quello che più tardi sarà chiamato topilsin chesalcote quindi in qualche modo i sovrani tra loro non sono solo nemici non sono solo dei competitor ma sono immaginatevi no il mondo degli acheide dell'iliade no sono tutti imparentati tra loro ma non hanno una parentela solo pragmatica reale fatta dai 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 rapporti matrimoniali creati nei tempi storici per sancire alleanze rapporti ma come dire una parentela ancestrale data dal comune lignaggio di chesalcote cioè tutti quei sovrani si ritengono in qualche misura figli di un chesalcote che ha fondato i rapporti questo permette cosa permette di far sì che il rapporto amico nemico che c'è tra tra città diverse sia regolato da da un primo come dire diritto delle genti antelitteram cioè non si può fare ciò che si vuole non c'è il l'arbitrio puro del principe no per parlare di temi che riguardano la fine dell'età medievale inizio età moderna no c'è più un arbitrio totale del principe ci sono delle regole di convivenza tra le varie città la conquista militare viene pensata come come un eccezionale come un atto davvero eccezionale che nessuno per secoli metterà in discussione si consolidano quindi delle organizzazioni locali tante sotto aree locali che finiscono per acquisire una loro autonomia pur nei rapporti costanti all'interno della meso america da nord a sud non immaginatevi di aree isolate bene questi rapporti costanti però producono delle aree sostanzialmente autonome che iniziano a sviluppare delle delle forme statuali un po più estese che non il semplice potere delle singole città state ora questa lunga parentesi per dire cosa quando ernan cortez nel milia e cinquecentodiciannove nel novembre del milia e cinquecentodiciannove per la prima volta mette piede eh sul lungo argine sul lungo ponte sospeso che collega la città la mescito tenochtitlan la città del messico che è al centro della laguna con la terra ferma e incontra mortesuma che gli viene incontro sente mortesuma pronunciare alcune parole che parlano raccontano anche di questo che sa il coro ora innanzitutto la scena è poetica ma nella maniera in cui ce la racconta cortez poco credibile cortez ci mette come dire in in per iscritto in una lettera che manderà a carlo quinto eh poco tempo dopo un dialogo tra lui e il sovrano che avviene nella più assoluta trasparenza però cortez in quelle terre da qualche mese non sembra avere delle competenze linguistiche tali da poter comprendere quello che cortez gli dice il il discorso che che mortesuma fa a cortez viene tradotto attraverso una catena traduttiva un po' complessa cortez ha avuto la fortuna di incontrare all'inizio della sua spedizione nel marzo dello stesso anno un frate che era eh naufragato qualche anno prima nei vari tentativi esplorativi di quell'area che aveva vissuto per otto anni tra i maia della costa aveva imparato qualche parola di maia ma era rimasto prigioniero non è che avesse un grande una grande funzione nel corso delle prime esplorazioni aveva eh vinto alcuni scontri militari con popolazioni locali aveva ricevuto in dono delle donne delle donne che aveva davano al cane delle donne indigene che erano schiave eh che badavano al campo degli spagnoli che diventarono alcuni concubine degli spagnoli eccetera eccetera tra queste una donna che è celeberrima nella storia messicana che si chiama Malince in termini eh ispanizzato Malinzin probabilmente il suo nome il suo nome indigeno era una donna eh di etnia vicina agli Astechi cioè che parlava la lingua degli Astechi ma che era stata venduta probabilmente o ceduta in uno scambio alle popolazioni di lingua maia e che quindi aveva appreso le due lingue aveva vissuto gran parte della sua vita come schiava tra i maia ma conosceva le due lingue quando viene donata al campo eh Cortes si rende conto che il frate e Malince iniziano a parlare tra loro in maia e quando arrivano in territorio Asteco dopo mesi di esplorazioni dopo essere entrati nell'interno tra la costa e l'interno c'è un lungo viaggio da compiere per arrivare all'area degli Astechi cioè sono dei mesi per arrivarci Cortes capisce che Malince comprende il linguaggio di quelle popolazioni immaginatevi Cortes non sa nulla della complessità linguistica di quel mondo è il prima ad arrivarci nella storia non sa niente di niente si rende conto che Malince capisce la lingua degli Astechi e che quindi potrà parlare con Montesumi a quel punto capisce la cosa più importante da fare è tenersi Malince sotto la propria ala protettiva direttamente perché è la risorsa decisiva delle vicende diplomatiche tanto che gli darà un figlio ha tenuta molto stretta evidentemente e gli insegna un poco di spagnolo ma lince pian piano fa a meno del frate di Aguilar inizia a essere l'unica in quel contesto a poter parlare un dialetto importante tra le lingue maia l'astego dei dei del popolo dominante in quell'area gli Astechi e lo di Cortes e lei sull'argine eh l'otto nove novembre del del 1519 a tradurre il discorso di mortesuma a Cortes ovviamente in questa catena traduttiva sicuramente si saranno perse molte cose si saranno perse molte sottigliezze per quanto Malince fosse eh a conoscenza della lingua degli Astechi è come se noi mettessimo non so un contadino della del del dell'Alto Lazio cinquecentesco a parlare con con un sovra con un pontefice che tipo di italiano potevano usare per comunicare quanto il contadino era capace di trasmettere tradurre capire la complessità dei linguaggi diplomatici che si producono a corte no? Stessa cosa accade in quel contesto probabilmente Malince traduce imperfettamente un un tema complesso Cortes sente raccontarsi una cosa che poi gli studiosi hanno ricostruito e scrive in una lettera a a Carlo Quinto in una lettera in cui cerca di legittimarsi con Carlo Quinto perché lui è lì eh in maniera insomma illegittima non ha avuto alcun alcun incarico da Carlo Quinto sta cercando di usurpare qualcosa quindi deve legittimarsi scrive a Carlo Quinto eh Mortesuma mi ha invitato ad entrare nella città a prendere il mio posto a sedermi sul sul nel posto che mi spetta e vi riconoscono ma sua vostra mia maestà vi riconoscono come loro legittimo sovrano Carlo Quinto come il legittimo sovrano Cortes non parla ancora di una discendenza con con un dio che è scappato che è andato lì dice mi aspettano perché il trono ci è stato dato da Chesalcoati ora nel tempo mettendo in parallelo sono lavori faticosi evidentemente comparando tante fonti tanti discorsi nobiliari che nelle lingue indigene vengono eh vengono trasmessi anche come dire che non hanno a che fare con questo evento in particolare eh questi racconti ci dicono che c'è come dire un sorta di protocollo eh diplomatico nell'incontro tra sovrani quando sovrani di città diverse si incontrano in questa grande pax mesoamericana che si produce in questa epoca si scambiano tra loro un diritto di ospitalità cioè il sovrano compie il gesto di invitare il sovrano straniero nel proprio palazzo lo fa sedere nel sul proprio trono e gli dice viene qui dove Chesalcoatl ti ha lasciato il potere che noi condividiamo c'è una sorta di strumento di equilibrio per fare in modo che tra loro sovrani di città nemiche trovino almeno momentaneamente no una forma di conciliazione delle possibili eh complessità no al di là delle grandi di delle grandi guerre che hanno eh come dire solcato la storia medievale e moderna europea i nobili continuavano a fare a tenere rapporti di etichetta formalmente ineccepibili no la stessa cosa accade in Mesoamerica le tensioni sono reali ma i sovrani tra loro si scambiano eh formule di di convenienze la formula di convenienza riconosciuta da tutti i sovrani delle città vicine è riconoscere che entrambi derivano da eh il loro potere da Chesalcoatl che lo condividono che sono in qualche modo solo il loro strumento e che quando si incontrano entrambi sono soggetti al potere sovrano arbitro potremmo dire di questo Chesalcoatl che li guarda che li osserva allora il racconto man mano che entra come dire nella nella tradizione spagnola inizia a prendere un'altra forma si inizia a pensare che in qualche modo questo possa essere utilizzato a fini politici e negli anni successivi nella letteratura politica inizia a a sostenere in qualche modo l'idea che Montesuma abbia ceduto a Cortes il regno il grande biografo di Cortes che è Francisco Lope de Gomara è il primo a sostenere in qualche modo che in quel discorso Montesuma già dal primo incontro avesse eh già deciso di consegnare il suo regno al sovrano che evidentemente di cui riconosceva la superiorità no? La seconda tappa fondamentale della scrittura di questo racconto avviene in un collegio eh il collegio imperial della Santa Cruz del Tlatelolco il termine Tlatelolco è un nome indigeno una parte della città di di Mescigo di Mescigo de Nostitlan dove i primi francescani costruiscono un collegio per eh educare i giovani nobili della discendenza steca che avevano eh perso il loro potere diretto il loro governo diretto sulla città ma che ancora avevano un potere in realtà immenso nella città di cui poi se abbiamo tempo parleremo un po' eh con i giovani nobili eh che vengono educati a partire dai sette otto anni eh leggono il latino leggono il greco sono educati al cristianesimo e imparano a usare la loro lingua indigena per scrivere con l'alfabeto europeo delle storie del passato i francescani fanno un grande progetto culturale straordinario eh che che è noto e noi in Italia ne abbiamo come dire il privilegio di possedere l'unica copia manoscritta che è il cosiddetto codice fiorentino il codice fiorentino è un codice una grande enciclopedia coordinata da un francescano che si chiama Bernardino Nesagun che insieme almeno a quattro informatori indigeni di altissimo lignaggio riscrive la storia eh dell'intera Mesoamerica dei popoli dei popoli del centro del Messico ma è una vera e propria enciclopedia medievale tutto a tutti gli effetti con una parte dedicata alla storia naturale eh con una parte dedicata all'educazione a al sistema religioso al sistema di governo eccetera eccetera tra tutti i libri di questa enciclopedia ce n'è uno straordinario scritto intorno al mille cinquecentosessantaquattro quindi più di quarant'anni dopo la dopo la sconfitta di di Mortesuma insomma dopo la vittoria di Hernán Cortés scritta da ragazzi di una quindicina ventina d'anni poi cresciuti che non avevano visto nulla del passato e che eh scrive una storia della conquista vista dagli 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 indigeni che racconta la storia di Cortés e la storia dell'incontro da Cortés e Mortesuma all'interno di una cornice profetica cioè la il racconto si apre con otto segni profezie che sarebbero stati mandati a Mortesuma dagli dei da un altro dio in realtà non da Chesalcote che qui non c'entra nulla e che l'avrebbero avvertito della sconfitta questo racconto è straordinario incredibile perché è davvero la fusione sincretica di questa cultura di questo mondo multiculturale che si crea nel collegio perché ci sono chiaramente elementi indigeni e chiaramente elementi di pensiero eh di tradizione profetica europea della tradizione del vecchio mondo che si mescolano in una fusione letterariamente straordinaria ora qual è il problema di questo testo che è il primo momento in cui emerge l'idea di una profezia sull'arrivo degli spagnoli allora innanzitutto il contenuto la profezia non corrisponde a quella che Duran produrrà qualche anno dopo ma si mette evidentemente su quella linea eh il testo non dice che stiano aspettando Chesalcote che ritorna ma semplicemente gli dèi avvertono Mortesuma che qualcuno sta arrivando non viene nominato per questo eh che gli spagnoli stanno arrivando allora qual è il problema di questo testo ancora sotto traccia che gli autori di questo testo eh i vari eh informatori indigeni di Bernardino di Salagù che hanno dei nomi spagnoli ma perché sono stati ribattezzati Antonio Valeriano eccetera eccetera sono in realtà i discendenti non della del lignaggio di Montezuma del sovrano sconfitto ma di lignaggi antagonisti a Montezuma di lignaggi di città tributarie di Montezuma di città che Montezuma aveva assoggettato nei decenni precedenti che quindi hanno un certo risentimento nei confronti degli Astechi nei confronti di Montezuma e che anzi hanno tutto l'interesse a sostenere che la ragione della sconfitta sia l'ignavia e l'incapacità di Montezuma stesso cioè l'incapacità di Montezuma di comprendere i segni che gli erano stati giustamente inviati dagli dèi se Montezuma fosse stato un sovrano adatto forse la nostra condizione dopo la l'arrivo degli spagnoli sarebbe stata diversa in questo racconto della conquista straordinario gli spagnoli di fatto quasi non hanno un ruolo sono sempre visti da lontano è una faccenda interna come dire un problema di politica interna la politica interna è fallimentare il sovrano è è del tutto incapace un sovrano pigro un sovrano un sovrano che aspetta una soluzione magica e incapace di prendere di possesso e dice perfino un sovrano così incapace così netto da scambiare gli spagnoli per degli idee come loro stessi sono consapevoli no del dell'errore allora questo è un altro testo che però evidentemente può essere riplasmato può dare il materiale gli ingredienti perché i protagonisti della parte spagnola possano strumentalizzare questo in questo questo racconto dati gli elementi profetici che duranno riprenderà alcune delle profezie verranno riprese dato il racconto che cortessa aveva tramandato attraverso la sua lettera ricomposto tutto il quadro inserito dentro a una a una tradizione a una cornice cristianizzante all'intervento del san tommaso apostolo delle americhe il quadro è compiuto la funzione narrativa è compiuta tanto che il racconto del chesalcoatl continuerà avere una funzione ancora per secoli diventerà uno dei grimaldelli della tradizione nazionalista mesoamericana no perché tutti i racconti mitologici hanno delle funzioni possono essere rifunzionalizzati costantemente possono essere raccontati ribaltandone pochi elementi mantenendo gli ingredienti ma cambiandole completamente il segno può diventare perfino un segno positivo perché può dire in fondo che c'è un cristianesimo autoctono nelle americhe che ci permette di autonomizzarci rispetto agli europei possiamo essere buoni cristiani e americani no in fondo quando alla fine del settecento all'inizio dell'ottocento il mito della virgen de guadalupe avrà il grande la grande fioritura che porterà la costruzione della nazione i protagonisti della della costruzione della nazione messicana stanno dicendo la virgen è apparsa agli indigeni autonomamente dalla nazione dei colonizzatori non ha nulla a che fare forse anche prima e il chesalcoatl che ci avete raccontato forse il segno che c'erano state delle degli annunci che precedevano l'arrivo del cristianesimo e quindi messico può essere una nazione cristiana rompendo il rapporto con la spagna non ha più bisogno della spagna allora capite che questi miti sono estremamente plastici quando poi studiosi come hankock e come altri ne prendono gli ingredienti non sono in grado di comprenderli all'interno della storia che li ha prodotti li rivestono di un'aura di mistero no che spesso queste popolazioni ten ai loro come dire sono portatrici involontarie ne fanno come dire una versione che mette insieme pezzi storicamente differenti dai maia del classico all'epoca coloniale ai racconti di mortesuma ne fanno la sintesi questa sintesi ha degli elementi tutto sommato non scorretti no perché non inventano nulla ricompongono gli ingredienti e gli fanno dire altro gli fanno dire tutt'altro un altro che però evidentemente ha una semplice forse più una funzione per la nostra storia che per la storia dei popoli mesi americani cioè la vera domanda è dovremmo chiederci cosa ha significato per noi la profezia del 2012 cosa ha significato per noi europei no da un lato forse ha dato voce alcune paure bisogni desideri di quegli anni di inizio secolo dall'altro anche però una tendenza a non voler ammettere a come dire anche auto assolverci no perché questa vicenda da noi italiani evidentemente ci vede marginalmente responsabili no però a noi europei ci dovrebbe porre come dire a noi come cittadini europei dovrebbe farci interrogare su sui modi in cui abbiamo preso possesso di parti del pianeta no e lo abbiamo fatto spesso presupponendo e affermando in maniera politica che questi popoli erano destinati ad essere sconfitti per la loro connaturata inferiorità tecnologica culturale intellettuale religiosa eccetera eccetera smentita l'assenza di scrittura siamo di fronte a civiltà che hanno prodotto la loro smentita l'assenza di storia è difficile no smentita l'assenza di civiltà in senso stretto certo come tutti i popoli del mondo hanno delle iniquità ingiustizie disuguaglianze grandi come dire ingiustizie prodotte in campo militare l'uso della forza stiamo parlando degli anni del sacco di roma quindi insomma non c'è davvero da stupirci no non siamo noi a poterci stupire delle violenze militari compiute in altre parti del pianeta e però abbiamo ancora bisogno come dire di raccontarsi in qualche modo l'ineluttabilità di questa sconfitta no dovuta in qualche modo all'arretratezza di questi popoli e quando scopriamo che si trattava di popoli tutt'altro che arretrati con la loro civiltà dobbiamo farci carico di dei fatti storici che ci hanno condotto fin lì credo che sia uno dei temi no che che sono sul campo decisamente decisamente ma tra l'altro tutte queste teorie pseudo storiche questo l'ho anche scritto nell'introduzione al video tutte queste teorie pseudo storiche secondo cui per esempio le piramidi sarebbero state costruite da altri cioè sono veramente io le trovo estremamente offensive verso questi popoli perché sottintende che non erano capaci di fare niente cioè allora noi facciamo il colosseo va bene nessuno non fa o il partenone nessuno batte ciglio gli egiziani fanno le piramidi maia fanno le piramidi no non possono essere stati loro perché non erano europei che cioè qual è la cosa di fondo costante se si se si avesse il coraggio di raccontare la storia delle americhe così come oggi l'archeologia ci permette di ricostruirla avremo tante sorprese no io credo che lo faccio come esercizio nei corsi delle lezioni perché so non perché gli studenti siano ignoranti poverini ma perché semplicemente sanno quello che la scuola gli ha trasmesso no e i manuali delle scuole superiori su questo le popolazioni indigene delle americhe sono molto arretrate noi abbiamo un'immagine per esempio del nord america come di una terra di di siù con le penne che vagano nel territorio alla ricerca dei bisonti no e con i cavalli che però non c'erano prima dell'arrivo degli europei e quindi già questo ci dovrebbe porre un po no quando sono arrivati questi cavalli da chi l'hanno avuti immaginatevi che i primi europei che vedono i le popolazioni delle grandi pianure a cavallo rimangono sorprese perché non immaginano che quelle popolazioni avessero dei cavalli perché non glielo avevano date certo gli inglesi cavalli nei francesi quei cavalli ce l'avevano da secoli ormai gli indiani avevano imparato a cavalcarli perché li avevano presi dagli spagnoli che erano in messico cioè c'erano contatti interni a questo ma al di là di questo piccolo elemento di colore no uno si immagina quindi una terra di cacciatori raccoglitori di nomadi cacciatori no e invece le americhe sono anche il nord america è stato un territorio di città ancora in epoca pre europea con una profondità storica impressionante il bacino del mississippi che è evidentemente un territorio perfetto per lo sviluppo di civiltà urbanistiche ha avuto come dire ha visto la fioritura di decine e decine e decine di centri urbani che grazie al fiume come tutte le civiltà del fiume pensate al fiume giallo in cina al nilo tiri le eufrate a scuola ci hanno fatto una testa così con le civiltà del fiume no anche il mississippi è una civiltà era una civiltà del fiume prima dell'arrivo degli europei e il mississippi è ovviamente un bacino un mezzo di cioè un strumento di comunicazione straordinario perché ti porta dalla costa del golfo fino all'illinois fino alla regione dei grandi laghi percorrere con imbarcazioni tutto il mississippi permette una straordinaria circolazione di 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 merci di beni di idee di cultura di intelletto no il cotone prodotto nelle antille prima dell'arrivo di cristoforo colombo no quando colombo arriva e trova i selvaggissimi indiani delle antille in realtà gli indiani le antille sono dei produttori di cotone hanno un'industria di cotone quel cotone è stato trovato tracce archeologiche certe di quel cotone sono state trovate nella regione dei grandi laghi cioè esistono dei commerci di grandissima distanza in epoca prima dell'arrivo degli europei quindi delle civiltà complesse come tutte però tornando alla questione delle piramidi anche in questo caso il ragionamento che fanno gli pseudostorici no è quello di individuare come dire una sorta di formale eh somiglianza esteriore la piramide egiziana assomiglia alla piramide alla piramide mesamericana no perché è una struttura usano superficialmente la apparente somiglianza dell'oggetto per supporre una medesima funzione quindi per supporre che siccome gli egiziani sono la civiltà degli alieni che sono venuti a portare tutto evidentemente gli alieni devono essere arrivati anche là se ne andavano in giro un po a caso nei posti più caldi gli alieni evidentemente gli piacevano però al di là di questo nessuno poi si pone l'obiettivo di capire se stiamo davvero parlando di piramidi allo stesso modo se stiamo parlando di lo stesso oggetto perché ora scusate l'abbassamento davvero del livello ma la piramide dal punto di vista architettonico è il naturale sviluppo della principi della più semplice forma di architettura spontanea dei popoli del montarozzo di terra cioè del mounds di quello che si chiama cioè del terrapieno no si fa un terrapieno si rialza una parte del terreno e vi si costruiscono sopra gli edifici che spiccano rispetto al resto del territorio mounds ne esistono in tutte le civiltà il problema è poi che cosa c'hai fatto sopra a quel mound allora il mound della piramide delle piramide egizie ha una funzione tutta introflessa cioè uno strumento la cui funzione si svolge all'interno cioè è una tomba è una camera sepolclare di un di un faraone che viene sepolto là dentro lasciamo perdere che ovviamente parla a chi sta fuori no però la sua funzione si svolge dentro no c'è una camera interna dove c'è la tomba dove c'è tutto quello che il faraone si voleva portare con sé e dice della gloria della potenza del faraone a chi sta fuori ma lo strumento non è l'oggetto architettonico non è esperibile dalla popolazione non è che ci puoi salire sopra entrare dentro fare qualcosa un momento particolarissimo no la piramide mesoamericana è invece uno strumento estroflesso non ha niente dentro a parte insomma potremmo ragionarci però principalmente tutto quello che si fa sulla piramide si fa verso fuori parla al popolo ma si fa sulla superficie della piramide perché la piramide ha delle scalinate di accesso a una camera superiore in cui si svolgono delle delle azioni delle azioni più segrete ma la maggior parte di quello che si svolge si svolge sulla scalinata e sulle piattaforme che hanno le piramidi perché la gente lo veda cioè sono gli atti rituali gli atti del governo gli atti politici gli atti celebrativi trionfi le grandi conclusioni dei cicli calendariali tutto quello a cui il popolo deve partecipare come se fosse una sorta di palcoscenico con un pubblico che ha una funzione completamente diversa rispetto alla piramide egiziana no da una parte una tomba dalla parte uno strumento quasi un palcoscenico teatrale sono pochissime le piramidi che sono mesoamericane che sono diventate anche tombe anche o che hanno delle camere interne che però rappresentano più eh una replica del cosmo piuttosto che non in replica dei sottosuoli piuttosto che non un luogo dove si depositano corti no o si tiene una la sepoltura di un sovrano ad esempio non è detto che siano legate ai sovrani no forse il caso di pacal è l'unico veramente eccezionale ma pacal come abbiamo detto è un'eccezione ha bisogno di marcarsi come eccezione e quindi dire che la piramide egiziana e la piramide mesoamericana sono simili solo perché si assomigliano nella loro struttura architettonica di un'ingenuità straordinario e questo è il rischio del modo in cui la pseudostoria la pseudostoria procede compara cose individuando degli isomorfismi solo superficiali senza mai indagare la funzione di quegli oggetti di quei tratti di quei racconti all'interno di quelle culture no può prendere la superficie del racconto dei racconti dei fatti culturali dei fatti architettonici e quindi la comparazione diventa più semplice il collage diventa più semplice il nuovo racconto si compone quasi da sé no ma infatti guarda la tutta la storia che hai raccontato a proposito è stata estremamente interessante mia mia veramente non solo me vedo anche nella chat ha veramente catturato tutti però la storia di cortes ci insegna che un tanto ancora una volta ciò che dico sempre nei miei video che le fonti storiche non vanno prese alla lettera ma vanno analizzate criticamente questo è un altro grande errore che fanno gli pseudostorici di prendere tutto per vero senza in modo da critico secondo per dire una bagianata ci vogliono ci vuole niente per smontarla per districarla ce n'è voluto anzi cioè io meno male che io ecco perché invito gli specialisti a parlare perché se avessi dovuto districare io questa storia della profezia di cortes non ci sarebbero voluti anni certo ci sono voluti anni io faccio il mio mestiere vi faccio la sintesi del lavoro fatto da da tanti no il problema è quello che uno dice si inventa un abbagianato o magari anche in buona fede può capire male può fraintendere però non ci vuole niente a dirla e a metterla in giro poi a smontarla e poi diventa e soprattutto è meno tra virgolette affascinante nel senso che al suo fascino per chi apprezza la storia al suo fascino per chi apprezza la storia vera però per chi invece cerca il sensazionalismo è meno affascinante certo certo ci sono delle popolazioni a me che sono destinate a diventire quasi naturalmente a diventare luogo di proiezioni esotizzanti no ci rendono la vita più semplice perché ci danno risposte a a problemi complessissimi che spesso ci lasciano noi storici archeologi storici delle culture ci lasciano con le insomma senza parole no senza capacità di interpretazione invece capisco che queste pseudo storie colmano tutte le domande quindi per questo sono molto affascinante il problema però come ho fatto notare spesso che le colmano solo in modo ancora una volta superficiale perché se tu dici va bene le varie culture sono derivate da atlantide o sono derivati da alieni ma non hai risposto alla fine come sono nate le culture di atlantide o degli alieni cioè hai solo messo una pezza e basta che non hai spiegato veramente in fondo sviliscono la straordinaria creatività umana che si è espressa in modi straordinari incredibili in ogni angolo del pianeta che merita di essere ai limiti delle nostre possibilità no però merita di essere apprezzata studiata ammirata in ogni angolo siamo tutti umani no e come siamo tutti portatori di una creatività inesauribile che in ogni angolo del pianeta ha creato qualcosa che vale la pena apprezzare io credo che questo sia insomma importante invece il rischio è che la pseudo storia ce lo cancelli un po no come dicevi tu prima nessun popolo è veramente protagonista di ciò che ha fatto sempre dipende da qualcun altro no sempre da un agente esterno che ha una sfiducia nell'uomo davvero davvero nelle altre popolazioni però non nella nostra noi noi il colosseo l'abbiamo fatto noi la parte gli alieni a roma non venivano non venivano anzi c'è un passo di giuseppe flavio che viene citato spesso che a un certo punto giuseppe flavio dice che aveva sentito da altre persone che avevano visto gli dei uscire scappare dal tempio dicendo noi ce ne andiamo e quindi volarmi andarono via quindi viene interpretato in senso alieno quindi secondo se uno interpreta in senso alieno questa storia vuol dire che quando arrivarono i romani gli alieni scapparono perché quindi non so i romani c'avevano questa senti allora prima di passare al prossimo punto anzi no magari passiamo adesso al prossimo punto poi se c'è tempo ti racconterò un aneddoto personale mi sa che rimane da da parlare se ti va di castanuda perché lui dice di aver lo dico perché dice di essere era un antropologo della università UCLA quindi università di los angeles che doveva fare una uno studio sull'uso delle piante medicinali tra virgolette nelle popolazioni insomma nel messico nuovo messico e così è solo che incontrò questo sciamano anche lì sullo sciamanesimo ci sarebbe da aprire ci sarebbe da fare un'altra diretta e niente quindi che però gli insegnò tutto quello che cioè gli trasmise degli insegnamenti tradizionali ecco quindi non solo sulle piante ma proprio gli trasmise tutta la conoscenza e lui diceva di essere depositario di una conoscenza dei toltechi una delle tante popolazioni messica allora allora ovviamente c'è la versione breve e la versione lunga della risposta cercherò una versione però la versione breve permettete siamo verso la conclusione quindi insomma posso permettere di essere un po' più sciolto ovviamente Don Juan non esiste ecco non è mai esistito alcun Don Juan o quantomeno nessuno ha mai visto Don Juan a parte Castaneda allora lo storico si mette Don Juan scrive la sua e qui quello che diceva all'inizio no non darei tutte le colpe a questi personaggi perché c'è una un concorso di colpa almeno no hai detto giusto giusto appunto un attimo fa che Don che Castaneda si prende i suoi titoli accademici da una signora università no una di quelle che noi quando i giornali italiani ci danno i ranking delle università le nostre stanno ai posti sotto la secondo centinaio e queste stanno sempre nella top ten cioè UCLA è là no però UCLA ha dato il titolo di dottorato il titolo di laurea di MA e di dottorato di PhD a Carlos Castaneda che come è chiaro noto a tutti e ora gli dirò perché ha totalmente inventato un'opera di fiction allora quando Castaneda scrive la sua prima tesi che è il libro la prima libro del 1968 c'è The Teaching of Don Juan che è il suo lavoro con cui apre tutta questa faccenda il testo raccoglie grandi entusiasmi dell'antropologia americana di quegli anni che è impegnata nella controcultura del 1968 che è impegnata in grandi sperimentazioni in parte della dell'antropologia californiana ad Esalen a Big Sur è impegnata in corsi sciamalesimo e lucinogeni eh ci insegnano Timoti Liri Aldo Saxley insomma ci insegnano i grandi protagonisti della cultura psichedelica è una antropologia tutta impegnata nel recupero dei saperi indigeni per costruire questa controcultura politica si può apprezzare non apprezzare il progetto a me non non è questo il punto no però ovviamente c'è una un'area grigia di confine no tra i saperi accademici puri e una sperimentazione che vedremmo un certo senso con un certo eh con una certa difficoltà no c'è l'idea che che assumere allucinogeni apra al il sapere antropologico a nuove prospettive quantomeno quantomeno può essere presa con le modi vogliamo dirlo almeno questo no non voglio delegittimare completamente queste operazioni che sono anche sofisticate ma quantomeno no capiamo che era dettato dal dallo spirito dell'epoca no lo spirito di quei tempi allora era da un po' di tempo che il Messico era diventato terreno di come dire di grande interesse per questi antropologi eh che andavano a studiare le sostanze psichedeliche il primo di tutti era stato Gordon Watson che negli anni cinquanta si era portato anche Hoffman Liri e gli altri da Maria Sabina una famosa curandera del centro del Messico a provare dei funghi eh dei funghi eh con con qualità allucinogene da cui poi venne sintetizzato il principio attivo dell'LSD eh per dirne eh inizia una certa moda insomma nell'ambito antropologico di di creare un'antropologia partecipante nella quale l'antropologo si fa direttamente sperimentatore e entra in contatto con un maestro che lo inizia Castaneda va tra gli Iachi che sono una popolazione del nord del del Messico al confine quasi con la California non è che faccia grandi sforzi passa a Tijuana e va subito dopo a qualche decina di chilometri di distanza da Los Angeles insomma scampagnata insomma più che una grande missione etnografica eh passa del tempo dagli Iachi torna con questo racconto e suscita un grandissimo interesse poi scrive un secondo libro che è la sua tesi di dottorato Viaggio a Islam e dopo qualche tempo siccome insomma la c'è una reazione della del mondo accademico e anche della cultura americana questa cultura del degli degli psichedelici alcuni iniziano a fargli un po' le pulci sono due studiosi principalmente a fargli le pulci che iniziano a riprendere tutti i due testi scritti da Castaneda fino a quel momento e nel settantaquattro settantasei scrivono due libri in risposta in cui mostrano come in realtà Castaneda aveva utilizzato tutta una serie di opere di antropologi precedenti e sull'area messicana e su altre aree sull'area colombiana e il grande libro di Mircea Eliade lo sciamanesimo le tecniche arcaiche dell'estasi che era stato tradotto nel sessantaquattro in inglese a Chicago e ne fa sostanzialmente un grande una grande invenzione cioè gran parte delle parole di Don Juan sono pezzi di etnografie diverse e pezzi di immagini dello sciamanesimo siberiano che Eliade aveva portato in vista pieno Castaneda è costretto a abbandonare l'università di lì a poco abbandonerà anche i psichedelici di fatto cioè sostiene che la l'utilizzo allucinogene non è più legittimo nella ricerca della della sua della sua traiettoria della tensegrità perché evidentemente capite che i federali in America l'abbiamo imparato dai film dopo un po ti stanno alle costole e tu non è che puoi metter su una corporation quotata in borsa continuando a promuovere l'utilizzo di sostanze allucinogene no? Gli anni sessanta sono finiti entriamo in un'altra fase è bene inventare altri modelli Castaneda abbandona pubblicamente nella smissione radiofonica agli anni settanta l'utilizzo degli allucinogeni e inventa questo nuovo metodo inventa questo nuovo metodo che è una saldatura di questioni di sciamanesimo che avrebbe imparato da Don Juan dello sciamanesimo che ha studiato in altri modi di tai chi di cose che vengono dall'oriente no? La il bricolaggio della della cultura americana di quegli anni è è all'ordine del giorno inventa la cosiddetta tensegrità e inventa questo metodo cosiddetto tolteco ora i toltechi sono la popolazione sono nella mitologia degli astechi so che si confondono un po' con le cose però avevamo provato a metterle un po' in fila nella eh mitologia degli astechi i toltechi sono la popolazione entro la quale che salcoatl avrebbe inventato tutte le arti e poi si sarebbe trasformato in venere ve lo ricordate no? Quei toltechi lì non hanno una vera e propria consistenza storica non sono una popolazione che noi riconosciamo in una città in un luogo in uno stato nulla del genere non c'è stata una civiltà alta di quel tipo eh nel nel periodo che le fonti descriverebbero è chiaramente una una un'invenzione mitologica sicuramente i toltechi non hanno niente a che fare con gli achi tra cui va a Castaneda se mai fossero esistiti siamo a tremila chilometri di distanza nord del messico centro del messico che pensate alle distanze europee a distanza che c'è tra Milano e Helsinki qualcosa del genere cioè in epoche storiche eh i gli abitanti dell'area non lo so i celti che abitavano la Lombardia prima della romanizzazione dell'alienizzazione e gli ucrofinnici dell'area lassù si erano incontrati qualche volta ma nientà cioè difficile no pensare a qualcosa di più strutturato ora sto semplificando gli achi di tolteco non hanno nulla seppure i toltechi esistono eh ammesso che i toltechi fossero la mitizzazione passata dei popoli astechi cioè un po' come i racconti del passato di l'Enea dei romani insomma no esiste Enea boh chi lo sa però no è un passato mitologico che i romani hanno usato per raccontarsi che però riguarda le origini latine di quel mondo no e poi precedentemente troiane lì nel mondo asteco gli astechi si raccontano un loro passato e lo segnano tra i toltechi quindi sono la loro storia i toltechi e gli iachi non parlano la stessa lingua non hanno la stessa cultura siamo nella zona desertica quindi fuori dai confini della Mesoamerica sono culture che hanno sono talmente tante isolate che hanno sviluppato tratti del tutto particolari ad esempio non hanno quel sistema calendariale che usavano i popoli della Mesoamerica che invece era diffuso perfino in parte della zona del nord america dove con cui gli astechi erano in contatto l'area del mississimi ad esempio ci sono delle culture un poco diverse isolate anche più semplici dal punto di vista materiale perché vivono nei deserti quindi l'invenzione di toltechi evidentemente data dal fatto che castaneda si informa legge e come dicevamo prima prende pezzi di una mitologia ne compone un'altra la dà un pubblico che non ha conoscenze di quei mondi che detta in termini un po brutali se la beve se la prende no se la se la siccome i toltechi erano una popolazione mitologica leggendaria in quel mondo riutilizzarsi come dire laura mitologica di quei popoli per inventare un metodo ha avuto una certa una certa efficacia poi se quello che propone castaneda serve a qualcuno fa piacere a qualcuno fa sentire meglio qualcuno io non ho nulla da obiettare che faccia un uso della storia però del credo posso io lo dico mi mi espongo secondo me illegittimo credo che invece va vada vada affermato cioè c'è un uso un consumo della storia di popolazioni che hanno legittimamente diritto a essere raccontate seriamente che le ha un poco ha prodotto una violenza simbolica su questi mondi no infatti oltre alla violenza fisica cioè dopo che gli europei come come è stato detto prima insomma hanno bruciato quasi tutti i libri ne hanno lasciati quanti 15 15 15 16 per gli ottimisti 14 per i pessimisti ecco diciamo una quindicina su a fronte di non si sa quante centinaia migliaia e oltre a quello adesso lo stesso cortes vanta di aver bruciato 80 mila libri in un giorno poi magari cortes tendeva a esagerare come i pestatori no però anche se fossero otto erano comunque e quindi dicevo oltre al danno anche la beffa perché adesso sempre gli tra virgolette occidentali strumentalizzano quel poco di cultura che è sopravvissuto quindi veramente io se fossi un nativo americano in generale proprio prendendo anche america in senso ampio sarei abbastanza arrabbiato ecco il rancore del risentimento ce n'è molto no qui in italia si parla si parla tanto della cancel culture i nativi americani hanno giocano una parte in questa rilettura della storia no che poi qui viene letta solo come cancel culture che forse sono gli estremi eh di alcune posizioni ideologiche esasperate però al sul sul fondo c'è una una storia una vicenda molto più complessa di come ce la raccontano i nostri i nostri giornali no e immaginatevi che in messico andarsene in giro a parlare di sciamani non fa grande piacere alle popolazioni locali insomma sono spesso mi sentono definire i loro curatori medici operatori rituali come sciamani capiscono che c'è qualcosa che proviene da 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 una tradizione che non è loro no va bene allora direi che il momento si passiamo le domande siamo vista l'ora ce ne sono state allora qualcuno intanto saluto quelli che sono arrivati nel frattempo innanzitutto grazie a tutti non vi vedo ma vi saluto allora la la chat se vedi dove c'è la la nostra chat a fianco dove c'è scritto ci dovrebbe essere quindi ecco quelli sono tutti i commenti e allora intanto un saluto a stefano sant'angelo che si trova in quarantena covid speriamo che questa live insomma sia stata non è un'epidemia aliena tanto chi chi segue qui non lo sa già quindi non siamo non ci sono ma c'è una domanda di wako dolan che immagino sia uno pseudonimo non so ma i popoli che hanno colonizzato l'america prima di colombo sono tutti originari della mongolia sono un unico popolo che si è mosso dall'asi allora questa anche la storia del popolamento delle americhe è una storia in rapidissima evoluzione perché oggi eh confidi abbiamo la possibilità di di lavorare non io che non ne so assolutamente nulla eh ma di lavorare su dati di genetica sempre più sviluppati sempre più certi e ci dicono che la storia del popolamento dell'america è più complesso di quanto immaginiamo certamente la storia classica diciamo del del racconto del popolamento ci dice di due grandi ondate eh una in un periodo intergraciale nel quale lo stretto di Bering intorno tra il trentamila ventimila avanti Cristo lo stretto di Bering ehm eh eh insomma le le acque si sono leggermente abbassate il il passaggio di quei trenta miglia che ci sono tra le due coste era più facilmente percorribile in alcuni periodi dell'anno si poteva e quindi le popolazioni siberiane hanno per qualche per una decina di migliaia di anni fatto avanti indietro per capirci l'evocazione dell'area siberiana più che mongola anche se insomma in parte sono 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 geneticamente simili no? Hanno fatto avanti indietro per tanto tempo fino a che qualcuno è rimasto si dice catturato quando poi la la glaciazione è tornata catturato dentro al territorio senza poter tornare indietro e da qui hanno iniziato a seguire quei due grandi corridoi aperti eh le grandi pianure per capirci fino alla agli altipiani del che seguono la 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 Sierra Madre quindi le montagne del Messico e fine e le Ande che che passano al lato delle Ande hanno nel corso di poche migliaia di anni eh colonizzato l'intero l'intero continente. Una seconda ondata più tarda è quella che intorno al cinquemila avanti Cristo probabilmente porta i popoli che chiamiamo eschimesi, inuit, eschimo nel nord del 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 continente americano, la parte artica. Eh sono popolazioni di un'epoca per successo molto successiva che non hanno più che non hanno quasi contatti con il resto del mondo americano e che provengono direttamente dall'Asia hanno anche affinità culturali con i popoli siberiani che sono state anche molto studiate. Eh in realtà man mano che si va avanti ci si rende conto che probabilmente tracce di popolamento sono ancora precedenti a quell'epoca e quindi eh popoli dall'Asia erano entrati molto prima che non sono del tutto da escludere possibili ma poco determinanti a punto di vista genetico eh viaggi dall'Africa cioè colmando quel brevissimo tratto di mare che che separa il golfo di Guinea dalla punta del Brasile dove c'è il resifere per capirci lì davvero la distanza è pochissima eh e si può colmare navigando eh abbastanza rapidamente ma soprattutto eh che il mescolamento delle popolazioni americane è stato molto più rapido di quanto immaginiamo per lungo tempo si è detto prima entra in Nord America seguono i mammut seguono i grandi mammiferi poi entrano in Messico ci mettono tanto tempo passano le ande e in Amazzonia è solo l'ultima parte ad essere stata abitata in realtà abbiamo dati di genetica che ci dicono che già in Amazzonia tra il ventimila e trentamila avanti anni prima di Cristo c'era presenza umana e il che ci dice che abbiamo ancora bisogno di riscrivere questa storia perché perché c'è molto ancora da fare tantissimo ancora da fare sono uno storico non farò niente sotto questo punto di vista ma ovviamente siamo dei lettori eh avidi di questa di queste faccende ma siamo in rapidissimo sviluppo è probabile che ci siano state diverse ondate tante diverse ondate anche più eh antiche di quanto immaginassimo e infatti adesso c'è una domanda per lo storico delle religioni sempre di Wacodolan si conosce quale religione hanno portato dall'Asia i primi ad arrivare nelle Americhe? Ecco no ci sono davvero il problema è che la come dire l'ingresso di queste popolazioni è talmente precedente talmente antico che non sappiamo neanche nulla sulle popolazioni del trentamila avanti Cristo in Siberia non sappiamo niente di quello che c'era in Siberia in quell'epoca nell'area siberiana eh più orientale cioè l'area degli acuti dei buriati delle popolazioni che poi abbiamo conosciuto storicamente ma quando nel 1500 nel 1600 dopo Cristo che erano in contatto con i mongoli qualche secolo prima ma quanto si può tornare indietro nella storia di quelle popolazioni difficilissimo dirlo no? La peraltro come dire la le religioni i primi tratti di religione dei popoli americani si producono quando già le lingue americane sono nate e le lingue americane si sviluppano nelle Americhe eh non c'è alcuna affinità linguistica tra i gruppi linguistici siberiani e tra i gruppi americani cioè c'è una affinità genetica che non che è innegabile eh il corredo insomma è quello a larga misura ma le lingue americane si sviluppano nelle Americhe quando pian piano i popoli iniziano a sedentarizzarsi seppure in forme seminomadi si iniziano a sviluppare delle lingue delle famiglie linguistiche si mescono tra loro e quindi una religione ha bisogno per trasmettersi almeno di un veicolo linguistico no? Eh quindi quando la lingua nasce in un luogo i le conoscenze i saperi immagino che siano locali americani questo rende la storia di questi mondi molto affascinanti perché è una storia davvero autonoma eh che sconvolse gli europei del cinquecento gli europei si chiedevano alcuni si chiesero se non fossero figli di un secondo Adamo tanto era improbabile no? Che fossero nati da Adamo per alcuni ovviamente per altri doveva essere per forza così perché questo smentiva la storia anzi per altri erano erano discendenti delle dieci tribù perdute di Israele no? Certo. Quindi ancora dopo Adamo quindi allora le civiltà maia azteca facevano enorme uso dei sacrifici umani le civiltà del nord america facevano lo stesso? Allora diciamo che il sacrificio umano o meglio il mettiamolo in termini un pochino più precisi il trattamento rituale dei corpi in seguito a eventi militari mettiamola così voglio essere un pochino più generico cioè un uso ritualizzato della violenza militare per capirci è diffuso in tutte le Americhe con intensità diverse eh i film del 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 grande epopea del West ci hanno insegnato che alcuni gruppi indiani in nord america facevano il cosiddetto scalp no? Tagliavano parte della capigliatura del prigioniero perché il corpo del prigioniero era di interesse rituale religioso perché aveva in qualche modo perché faceva acquisire merito a colui che l'aveva che l'aveva preso e perché diventavano in qualche modo una proprietà estesa del corpo del 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 vincitore in guerra. Ci sono civiltà dove questo trattamento dei corpi dei prigionieri degli sconfitti è più sviluppato altrimenti sicuramente le popolazioni che ne facevano un maggiore uso sono proprio quelle del Messico dell'area mesoamericana di cui abbiamo parlato oggi. Non è escluso che ne facessero un certo uso anche i popoli delle Ande l'altra grande civiltà agricola del delle Americhe cioè proprio degli Inca per capirsi degli Aymara dei Keshu eccetera eccetera ne facevano un certo uso insomma il sacrificio umano è stato eh usato da tante popolazioni in passato no non solo nelle Americhe eh però certamente le popolazioni mesoamericane hanno fatto un uso estensivo eh massiccio non nei numeri che ci hanno trasmesso gli spagnoli il famoso famigerato Diego Duran che di cui vi raccontavo prima il frate domenicano eh di Chesalcote della profezia ci dice che in un giorno mortesuma sacrificò 84 mila persone in onore di una divinità ovviamente non abbiamo alcuna attestazione archeologico o di questo genere che che attesti niente del genere nella storia mesoamericana 84 mila sacrificati in un giorno è un'ecatombe no significa sottoporre l'economia di un di un'area a a al disastro perché 84 mila mani e forza lavoro che sono sottratti al lavoro significa suicidarsi o c'è un eccesso di demografia che deve essere controllato in qualche modo oppure nel senso sappiamo che i numeri erano consistenti che fanno raccapriccio non sto dipendendo a prescindere la violenza eh a me tutt'altro ma che non arrivavano a questi numeri sappiamo che in alcune occasioni speciali si poteva forse arrivare a una decina di persone sacrificati durante un evento ma che di solito i sacrificati erano in numeri molto ridotti anche perché sembrerà strano ma è così accedere al destino sacrificale è un un privilegio no una morte no una morte onorevole una morte eh insomma acquisita con merito no perché si è catturati in guerra per essere stati sconfitti da un militare nobile eh di alto rango eh una volta si vince una volta si perde la guerra è così eh una volta tocca a me una volta a lui una volta sarò io a catturare prigionieri da sacrificare nella mia città una volta sarò io a essere catturato per essere sacrificato eh abbiamo una serie di dati recenti che ci dicono quanto questa vicenda sia un poco diversa da come ce la raccontava Gibson per capirci no? Come fosse un atto di violenza brutale cieca certo lo era ma anche differente ad esempio sappiamo che molto spesso prigionieri catturati vivevano per lungo tempo nelle città del catturatore vivevano per decine di anni anche si facevano famiglie fino al momento in cui poi venivano sacrificati paradossale come è stato scoperto cose di questo genere corpi di uomini che erano morti chiaramente per forma violenta con con il cuore strappato l'apertura del costato insomma si si capisce quando la rottura di certe ossa è avvenuta per azioni rituali precise no? E non per atti militari avevano come dire pur provenendo da città lontanissime avevano mangiato per gli ultimi vent'anni sia da dall'analisi del DNA nei denti eccetera eccetera eh degli elementi che ci sono tra i denti si scopre la dieta degli ultimi vent'anni del prigioniero e il prigioniero che veniva da un'area tropicale a un certo punto per vent'anni mangia alimenti completamente diversi quindi era stato catturato forse vent'anni prima per vent'anni aveva vissuto in quel mondo prima di andare ad essere sacrificato in forma violenta una storia che non non quadra perfettamente no? Nella idea dell'imposizione eh come dire anche di un terrore militare alle popolazioni soggette è qualcosa di un pochino più più articolato e complesso altro piccolo aneddoto per farvi capire il prigioniero e il catturatore stabiliscono una artificiale forma di parentela tra loro cioè il corpo del prigioniero diventa tabuizzato per colui che l'ha catturato non può più toccarlo dopo averlo portato nella città deve mantenere la famiglia si tratta sempre di nobili eh forse l'ho dato per scontato di alto rango non sono non è il popolo che viene usato per questi eventi eh il nobile che ha catturato deve prendersi carico della famiglia di colui che è stato che è prigioniero deve mantenerla a distanza magari a distanza di mille chilometri deve fare in modo di mandare un vitalizio per mantenere perché e tratta la famiglia di là come se fosse entrata dentro un suo circolo di parentela si raccontano le storie del del catturatore che va la notte a piangere nelle stanze dove il catturato era era tenuto in attesa del sacrificio e ci sono queste lamentazioni rituali in cui piange fratello mio domani devi morire e gli dà del fratello chiama un fratello no in qualche caso termini di parentela stretta c'è una parentela acquisita dal destino comune dettato dalla guerra poi una volta catturato una volta ucciso il catturato una volta estratto il cuore una volta distribuito lui avrà in trofeo alcune parti no in mesoamerica in messico principalmente sono i femori del dei dei catturati che vengono tenuti come 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 delle medaglie al valore non so come dire no come le medagliette al valore dei nostri generali come il segno di un merito acquisito in battaglia è terrificante ovviamente ma fa parte di una ritualizzazione della guerra che non è così inconsueta no forse in queste forme è effettivamente davvero violenta ma non è così inconsueta nella storia dell'umanità va bene poi quando leggevo cose più storiche dice multivac spesso leggevo del vescovo diego de landa che studiava i maia in relazione alla leggenda del continente mu no mi pare che mu la leggenda di mu sia più più recente di del cinquecento perché io so che fino fino all'ottocento andava divulgato di moda atlantide poi sulla scia di quello la società teosofica quindi parliamo di tre secoli dopo diego de landa se ne uscì con altri continenti sì ecco io non sono espertissimo delle accende di all'anti de mu anch'io sapevo che mu avesse un coté diciamo teosofico e quindi non credo che si sia mai citato mutra e mai a yucatechi del di diego de landa sicuramente de landa è uno di quelli che che raccoglie racconti mitologici sui sulle distruzioni diciamo sugli avvicendamenti dei cicli della storia maia no abbiamo detto c'ha lunghi cicli e raccontavano diciamo dei racconti mitologici su come questi cicli si erano conclusi e ne iniziavano di nuovi e spesso con dei cataclismi eccetera eccetera e quindi capite che ancora una volta la psicostoria gioco facile perché unisce pezzi di racconti diversi ne compone uno dice ah lo vedete che anche i maia pensavano no la storia del diluvio anche i maia non diluvio vabbè ma voglio dire alla fine come ho già detto in un'altra diretta stiamo parlando di un'inondazione cioè non non è un evento rarissimo no che tutti quanti i popoli hanno in qualche modo sperimentato quindi produrci sopra una narrazione produce una facilità per gli pseudostorici che hanno gioco facile allora per questo abbiamo già risposto allora riccardo ferrero ferraro chiede rimanendo in ambito narrativo il professore conosce l'adsteco di gary jennings mi hanno assicurato che è molto ben documentato realistico è effettivamente così allora mi sembra che sia se ricordo bene una lettura un po vecchia nel tempo non sia un racconto così sensazionalistico ovviamente fa un uso un poco libero della storia ma ci sta è una narrazione quindi quello che che fece all'epoca era un buona sintesi di dei fatti storici più come dire più un tentativo di mettere anche una storia di come dire nelle forme di vita degli astechi di quell'epoca abbastanza credibile ora nel dettaglio però ammetto di non aver fatto un lavoro di rilettura sistematica e attenta del del romanzo sono certo che che ne esistono in letteratura credo che fosse tra tra questi lavori di fiction tra i più interessi tra i più divertenti interessanti e meno meno violenti diciamo a questo abbiamo già risposto perché dice molti pseudostorici citano lingue di civiltà sudamericane con molte similitudini con quelle dell'area mediterranea scandinavia cosa c'è di vero direi niente perché abbiamo appena detto che le lingue si sono formate in america quindi le lingue ovviamente americane no perché sono poi potrebbero non solo due o tre le lingue americane sono in messico anche oggi se ne parla almeno 60 solo in messico e nelle americhe diverse centinaia di lingue indigene ancora parlate allora poi berenice marino allora da dove ha origine la bufala della profezia maya nella fine del mondo del 2012 e qui tiro fuori un altro mio con molta vergogna molto vergogna questo qui le profezie dei maya di sono due altri autori pseudostorici abbastanza famosi senti qui devo spezzare una lancia a favore della pseudostoria che adesso colpo di scena dopo questo qui del questo libro del 95 96 96 quindi fu il primo a parlare di calendario maia nel 2012 quello che descrive anche il calendario maia allora ecco non faccio nomi però qualcuno potrebbe da ragazzino aver fatto un programma in basic per convertire la data dal data gregoriana a data maia non faccio nomi per però devo avercelo su qualche dischetto ancora purtroppo perché volevo fare portarlo in questa live però non l'ho trovata devo averlo su floppy disk da qualche parte quindi addio allora in realtà come vi dicevo i mai hanno un ci avevano un computo calendariale con un ciclo che approssimativamente è difficile come abbiamo dei problemi a collocare noi calendari antichi al in corrispondenza al nostro le correlazioni tra il calendario gregoriano e i calendari indigeni ha avuto una certa difficoltà perché per tanto tempo gli spagnoli li hanno proibito l'uso dei vecchi calendari quindi è come dire in epoca delle scienze storiche archeologiche contemporanee che si è cercato di risalire no a trecento anni dopo trecento anni di non utilizzo di quegli antichi calendari quindi far coincidere le date era complicatissimo le fonti non sempre erano omogene non sempre uniformi si è cercato in qualche modo soprattutto quelle così antiche si è cercato in qualche modo di provare a trovare delle correlazioni un lavoro complicatissimo e si è ricostruito l'idea che questo ciclo del computo lungo di che i maia collocavano approssimativamente nel tremila cento quattordici avanti cristo si sarebbe concluso nel duemiladodici è un dato matematico un dato di fatto quindi la proiezione della pseudostoria dice beh se i maia hanno pensato questo grande ciclo evidentemente devono pensato a delle catastrofi finali non è vero non abbiamo alcun racconto su catastrofi del duemiladodici ne hanno prese da altri pezzi di popolazioni dell'area che raccontavano altre cose hanno provato a mettere tutto insieme e pian piano si è costruita sarebbe interessante ricostruirlo nel dettaglio si è ricostruita la storia di questa profezia del duemiladodici che come vi dicevo però non ha alcuna non c'è alcuna profezia scritta sul duemiladodici nessun testo maia dell'epoca in cui quei dati calendariali quelle notizie calendariali sono prodotte avevano un'altra funzione vi dicevo guardavano più al passato che al futuro e infatti abbiamo le date di partenza del conto zero cioè il 3114 quello che corrisponde al nostro 3114 ma su quello che sarebbe successo dopo non abbiamo praticamente niente abbiamo un dettagliato racconto del passato perché il passato fondava il presente fonda il presente chiaro no sulla storia del passato si fondano gli eventi presenti il futuro interessava un po meno sinceramente le profezie sono sempre retrospettive ricordate si scrivono sempre dopo gli eventi circolava una una vignetta l'anno scorso inizio l'anno scorso inizio della pandemia dove c'era un maia che scriveva scrive su una tavoletta diceva raga a me viene fuori 2021 no no è 2012 tranquillo perché sai c'era la catastrofe ormai 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 non si stava allora domanda mai me chica applicavano il concetto della ruota allora in assenza come noto di animali da traino di bovini e quindi da traino la ruota si fa piuttosto decisamente inutile diciamo ne conoscono la funzione tanto che addirittura inventano dei piccoli hanno dei piccoli giocattoli da bambini che si che si trascinano come dei carrellini no addirittura degli animali con le con le ruote con cui facevano giocare i bambini e però non ne possono fare un uso come tecnica di trasporto perché perché sono davvero inapplicabili cioè attaccare delle ruote dagli uomini è abbastanza è abbastanza inutile no anche gli inca hanno conoscono l'uso della ruota per altri scopi ma anche la avendo solo il ama il ama non a quanto pare non sembrano essere particolarmente felici di vedersi attaccati dei carretti non l'anno non lo hanno fatto non lo fanno neanche in epoca contemporanea oltretutto i cammini montani che gli inca percorrevano sulle ande rendono la costruzione di strade su cui possiamo stare dei carri molto molto complicate e quindi di fatto più che essere una segno di una retratezza di un sistema culturale quanto la piuttosto quanto la come dire la mancanza delle circostanze che hanno favorito lo sviluppo di una tecnica no che pure era la portata perché altri usi tecnici della ruota ad esempio no usata per come dire per come perno come come strumento attraverso il quale per per piantarla nei perni e usarli come macchine rotatorie di vario genere ne conoscevano per pressare per per pigiare no in ambiente agricolo ne usavano quindi conoscevano la ruota ma non era evidentemente affatto utile per per trasporto questa è una domanda che secondo me è più per me che per cosa spingere popolazioni a studiare il cielo tolto il misticismo religioso beh per motivi agricoli prima di tutto per sapere quando arrivano le stagioni per le direzioni per orientarsi per anche per motivi mitologici ovviamente anche perché poi non avevano la televisione non avevano non avevano inquinamento luminoso quindi tu uscivi di casa o dalla capanna o dalla grotta e ci avevi questa la via lattea che si vedeva tranquillamente c'è uno spettacolo che noi adesso per vederlo dobbiamo andare quando va bene sul pollino qua al sud italia se no in cioè in luoghi molto molto isolati in spagna per dire in europa dove c'è meno inquinamento luminoso c'è un luogo in spagna se no quello con meno inquinamento luminoso in assoluto è in perù finché elon musk non farà questo starlink che sarà questa rete di satelliti che rovinerà il cielo infatti stanno molti astronomi stanno cercando di impedire questo questo lancio di questi starlink perché ovviamente vorrebbe dire rovinare quel poco che c'è rimasto comunque dicevo sì ci sono tanti tanti motivi per cui anche pratici prima di tutto prima che religiosi condivido condivido pienamente non voglio sembrare poco poetico ma credo che i fini i scopi pratici siano certa certo non c'è dubbio che come dicevi la volta celeste è talmente incredibile che dovrebbe aver suscitato anche sentimenti evidentemente però certo che è la base di un'organizzazione pratica dello spazio per per tutti i popoli dell'antichità allora recentemente sentito questo era in risposta al fatto che dicevo che quando noi nessuno trova strano no che il colosseo abbiamo fatto noi allora curiosamente dice che saluto dice che qualche pseudo storico attribuisce anche il pantheon è vero però io mi riferivo per esempio a von deniken quello che più di tutti ha venduto la teoria degli antichi astronauti e praticamente hanno fatto proprio un calcolo statistico su tutti i luoghi menzionati da come si chiama da von deniken ha visto che quelli in europa sono tipo due e tutti gli altri 90 per cento sono tutti negli altri continenti quindi mi riferivo a lui sì che poi qualcuno abbia detto del partenone non mi stupisce però è minoritario l'hanno detto anche di castel del monte qua vicino in puglia però sono cose minoritarie cioè la tendenza generale è quella di attribuire agli alieni le civiltà altre va bene allora ecco questo mi accodo a berenice marino sarebbe bellissimo un'altra diretta sulla sciamanese mi accodo se va bene allora sì adesso direi che abbiamo superato le ore quindi anche perché non ci sono ti ringrazio grazie per la risposta professore complimenti grazie a voi grazie a tutti va bene allora beh grazie davvero grazie davvero per questa questa interessantissima diretta grazie a voi spero che sia stato chiaro e stimolante in qualche modo assolutamente 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 allora io adesso chiuderò la diretta però se ci sentiamo un po in privato per i saluti al volo ok allora buona serata a tutti ci vediamo il prossimo video il prossimo video sarà su schliman un tempo di prepararlo mi sto documentando anche lui ne ha detto di bagianate nonostante li va va riconosciuto il maio di ritrovo però va bene alla prossima e buona serata a tutti grazie di nuovo professore grazie a tutti